Parte terza. Il profeta. Nessuna donna, nessun uomo, nessun fanciullo godette mai dell'intimità di mio padre. Se l'imperatore Padiscià ebbe mai con qualcuno un rapporto che assomigliava vagamente all'amicizia, questo fu col conte Hasimir Fenring, suo compagno d'infanzia. La misura dell'amicizia del conte Fenring può essere valutata da un fatto positivo, calmò i sospetti dell'Ensrad dopo i fatti di Arrakis. Costò più di un miliardo di solari in spezia, così disse mia madre, e vi furono anche altri doni, schiave, onori regali, titoli nobiliari. Ma la seconda e più importante prova dell'amicizia del conte fu negativa. Si rifiutò di uccidere un uomo, anche se questo era nelle sue capacità, e mio padre l'aveva ordinato. Narrerò di questo più avanti. Da un profilo del conte Fenring, della principessa Irulan. Pieno di rabbia, il barone Vladimir Arkonen arrivava dai suoi appartamenti, volteggiando nelle chiazze di luce che il tardo pomeriggio faceva piovere dalle finestre, contorcendosi violentemente sui sospensori. Attraversò come un turbine la cucina privata, la biblioteca, la piccola sala dei ricevimenti e l'anticamera della servitù, dove era già l'ora del riposo. Il capitano della guardia, Yakin Nefud, era accoccolato su un divano dall'altro lato della stanza, il volto torpido e assente, istupidito dalla semuta. Il miagolio lamentoso della musica della semuta lo circondava. Aveva intorno la sua corte personale, pronta a servirlo. «Nefud!» ruggì il barone. Gli uomini saltarono via da ogni lato. Nefud si alzò, pallido come un morto nonostante il narcotico. La musica della semuta si era interrotta. «Mio signore, barone!» disse Nefud. Soltanto la droga impediva alla sua voce di tremare. Il barone esaminò i volti che lo circondavano. Gli occhi lo fissavano privi di emozione. Nuovamente rivolse la sua attenzione a Nefud e gli disse in tono suave «Da quanto tempo sei il capitano delle mie guardie, Nefud?» «Nefud deglutì. Dai tempi di Arrakis, mio signore. Quasi due anni. E hai sempre previsto i pericoli che minacciavano la mia persona?» «È stato sempre il mio unico desiderio, mio signore?» «E allora dov'è Feidrauta?» ruggì il barone. Nefud indietreggiò. «Mio signore?» «Oh, tu non consideri Feidrauta un pericolo per la mia persona?» Nuovamente il tono suave. Nefud si passò la lingua sulle labbra. L'istupidimento della semuta si dileguava dai suoi occhi. «Feidrauta è nel quartiere degli schiavi, mio signore.» «Ancora con le donne, eh?» Il barone tremò nello sforzo di dominare la rabbia. «Sire, forse...» «Silenzio!» Il barone avanzò di un altro passo nella stanza, notando come gli uomini arretrassero, lasciando un certo spazio intorno a Nefud, dissociando se stessi dall'oggetto della sua ira. «Non ti ho forse ordinato di sapere ad ogni istante dove si trova il nabarone?» gli chiese il barone. fece un altro passo in avanti. «Non ti ho forse ordinato di sapere esattamente tutto quello che si dice? E a chi?» Un altro passo. «Non ti ho forse ingiunto di informarmi di ogni sua visita al quartiere delle schiave?» Nefud inghiottì. Gocce di sudore gli imperlavano la fronte. Il barone concluse con voce piatta, impersonale. «Non ti avevo detto tutto questo.» Nefud Danui. «E non ti avevo detto anche di controllare tutti i ragazzi inviati a me e che avresti dovuto farlo personalmente.» Ancora una volta Nefud Danui. «E non hai visto, per caso, la macchia sulla coscia di quello che mi hai mandato questa sera? È possibile che tu...» «Zio.» Il barone si voltò di scatto, fulminando con lo sguardo feidrauta immobile sulla soglia. La presenza di suo nipote, lì, in quel preciso istante, lo sguardo ansioso e il respiro anzante che a stento dissimulava, tutto questo rivelava fin troppe cose, ma soprattutto il sistema di spie che feidrauta teneva puntato contro di lui. «C'è un cadavere nelle mie stanze. Portatelo via», disse il barone, sfiorando con la mano l'arma a proiettili che aveva sotto la veste, felicitandosi con se stesso che il suo scudo fosse il migliore. Feidrauta lanciò un'occhiata alle due guardie, immobili contro la parete a destra, e annui. I due si precipitarono verso la porta e lungo il corridoio, che portava agli appartamenti del barone. «Quei due, eh?» pensò il barone. «Ah, questo giovane mostro ha ancora molto da imparare sulle cospirazioni. Presumo che tutto fosse tranquillo nel quartiere degli schiavi quando l'hai lasciato, feid», disse. «Giocavo a Cheops col maestro degli schiavi», replicò feidrauta, e pensò. «Che cos'è che non ha funzionato? Il ragazzo che gli abbiamo mandato è stato ovviamente ucciso, ma era perfetto per quel lavoro. Lo stesso Awat non avrebbe potuto sceglierlo meglio. Il ragazzo era perfetto. Così giocavi agli scacchi piramide», riprese il barone. «Molto bene. Chi ha vinto?» «Io? Eh, sì, zio». Feidrauta si sforzò di nascondere l'inquietudine. Il barone fece schioccare la lingua. «Nefud, vuoi tornare nelle mie buone grazie?» «Mio signore, che cosa ho fatto?» balbettò a Nefud. «Non ha importanza ora», disse il barone. «Feid ha battuto il maestro degli schiavi a Cheops. Non hai sentito?» «Sì, signore. Voglio che tu prenda tre uomini e vada dal maestro degli schiavi», continuò il barone. «Strangola il maestro degli schiavi. Quando è finito, portami il suo corpo, perché io veda se il lavoro è stato fatto bene. Non possiamo avere un giocatore di scacchi così netto al nostro servizio». Feidrauta impallidì. Fece un passo avanti. «Ma zio, io...» «Più tardi, Feid», l'interrompe il barone con un cenno della mano. «Più tardi». Le due guardie che erano accorse negli appartamenti del barone a prelevare il corpo del giovane schiavo passarono barcollando nell'anticamera con il loro carico oscillante, facendo strisciare le braccia sul pavimento. Il barone li seguì con lo sguardo finché non furono scomparsi. Nefud scivolò accanto al barone. «Volete che uccida subito il maestro degli schiavi, mio signore?» «Subito», replicò il barone. «E quando avrei finito con lui, aggiungi anche quei due che sono appena passati. Non mi è piaciuto il modo con cui hanno portato il corpo. Queste cose vanno fatte con cura. Voglio vedere anche i loro cadaveri». Nefud disse «Mio signore, se c'è qualcosa che io fa come il tuo padrone ti ha ordinato», l'interruppe Feidrauda, e pensò «Tutto quello che posso sperare adesso è di salvare la pelle». «Bene», pensò il barone. «Ora il ragazzo almeno sa come limitare le perdite». Sorrise e disse tra sé «Il ragazzo sa anche compiacermi ed evitare che la mia ira ricada su di lui. Sa che devo preservarlo. a chi altri potrei passare quelle eredini che un giorno dovrò abbandonare. Nessun altro è così capace, ma ha ancora da imparare e devo proteggere me stesso mentre impara». Nefud designò gli uomini che dovevano accompagnarlo e uscì dalla stanza. «Ti dispiace accompagnarmi nel mio appartamento, Feid?» disse il barone. «Sono a tua disposizione». Feidrauda si inchinò pensando «Mi ha preso». «Dopo di te», fece il barone indicando la porta. Feidrauda tradì la sua paura con un attimo di esitazione. «Ho sbagliato tutto», si chiese. «Mi pianterà forse una lama avvelenata nella schiena, lentamente attraverso lo scudo. Ha forse trovato un altro successore». «Che assapori questo istante di terrore», pensò invece il barone, incamminandosi dietro il nipote. «Sarai il mio successore, ma sceglierò io il momento. Non gli permetterò di abbattere tutto quello che ho edificato». Feidrauda si sforzò di non camminare troppo rapidamente. Sentì la pelle accapponarglisi sulla schiena, come se il suo stesso corpo si chiedesse quando sarebbe arrivato il colpo. I suoi muscoli si tendevano e si rilassavano continuamente. «Non hai sentito le ultime novità su Arrakis?» disse il barone. «No, zio». Feidrauda lottò per non voltarsi. Scivolò in un altro corridoio, fuori dall'area di servizio. «C'è un nuovo capo religioso, un profeta di qualche tipo tra i fremen», continuò il barone. «Lo loro religione. Li terrà occupati». «Molto interessante, zio», disse Feidrauda. Entrò nel corridoio che portava alle stanze private dello zio, chiedendosi «Perché mai parla di religione? Vuole forse insinuare qualcosa su di me?» «Già, proprio così», commentò il barone. Entrarono nell'appartamento del barone e attraversarono la sala dei ricevimenti fino alla camera da letto. Vi erano impercettibili tracce di lotta. Una lampada a sospensione rovesciata, un cuscino sul pavimento e sul capezzale una bobina ipnotica completamente aperta. «Un piano molto intelligente», disse il barone. Mantenne il suo scudo al massimo, si voltò e fronteggiò il nipote. «Ma non abbastanza». «Dimmi, Feid, perché non mi hai colpito personalmente? Non hai avuto abbastanza occasioni?» Feidrauda agguantò una sedia a sospensione, scrollò mentalmente le spalle e si sedette, senza che suo zio l'avesse invitato. «Devo giocare d'audacia», pensò. «Sei stato tu a insegnarmi che devo tenere le mani pulite», dichiarò. «Sì», replicò il barone. «Quando ti troverai davanti all'imperatore, devi poter dire in tutta sincerità che non sei stato tu a commettere il delitto. La strega dell'imperatore ascolterà le tue parole e saprà subito se sono vere o false». «Sì, ti ho avvertito di questo». «Perché non hai mai comperato una Bene Gesserit, zio?» disse Feidrauda. «Con una veridica dalla tua parte?» «Conosci benissimo i miei gusti», replicò bruscamente il barone. Feidrauda l'osservò, poi riprese. «Tuttavia, lei di «Non mi fido di loro», ringhiò il barone. «E non cambiare argomento». Feidrauda annui, umilmente. «Come vuoi tu, zio?» «Mi ricordo di un giorno, nell'arena qualche anno fa», riprese il barone. «Quel giorno sembrò che uno schiavo fosse stato preparato per ucciderti. Era vero?» «È stato molto tempo fa, zio. Dopotutto io...» «Non eludere la domanda, per favore», l'interruppe il barone. Una rabbia crescente risuonò nella sua voce. Feidrauda lo fissò, pensando «Lo sa, altrimenti non me l'avrebbe chiesto». «Era tutto un imbroglio, zio, per screditare il tuo maestro degli schiavi». «Molto astuto», disse il barone, «e anche coraggioso. Quel gladiatore per poco non ti ha ucciso, non è vero?» «Sì. Se la tua astuzia fosse pari al coraggio, saresti veramente formidabile». Il barone scosse ostentatamente la testa. E come aveva fatto molte volte da quel terribile giorno su Arrakis, rimpianse la perdita di Peter, il Mentat. Era stato un uomo dall'astuzia diabolica e sottile. Tuttavia, questo non era bastato a salvarlo. Ancora una volta il barone scosse la testa. Il destino, a volte, era imperscrutabile. Fedrauta esaminò la stanza, studiando i segni della lotta, e si chiese come suo zio fosse riuscito a sovraffare lo schiavo che avevano preparato con tanta cura. «Come sono riuscito a vincerlo?» disse il barone. «Ah, Faith, lasciami almeno qualche arma per difendere la mia vecchiaia. È meglio che approfittiamo di questi pochi istanti per concludere un patto». Fedrauta lo fissò. «Un patto? Allora sono sempre il suo erede, altrimenti perché mai parlerebbe di un patto? Ci si accorda soltanto coi propri pari, o quasi?» «Un patto, zio?» E Fedrauta provò un certo orgoglio per la sua voce calma e ragionevole, che non tradiva l'interna esultanza. Anche il barone apprezzò il suo controllo e annui. «Tu sei un'ottima materia prima, Faith, e io non la spreco mai. Ma insisti, tuttavia, a non voler riconoscere il valore che io rappresento per te. Sei ostinato. Non vuoi capire perché ti convenga risparmiarmi. Questa...» fece un ampio gesto verso i segni della lotta. «È stata una follia e io non premio la follia. Arriva il punto, vecchio pazzo!» pensò Fedrauta. «Tu mi consideri un vecchio pazzo?» disse il barone. «Ti sbagli. Mi hai parlato di un patto?» «Ah, l'impazienza dei giovani!» sospirò il barone. «Bene, ecco il patto allora. Tu cesserai questi folli attentati alla mia vita. E io, quando sarei pronto, abdicherò in tuo favore. Mi ritirerò in una posizione di semplice consigliere e ti lascerò il trono. Ritirarti, zio! Pensi sempre a me come un vecchio pazzo!» ribatte il barone. «E questo lo conferma, non è vero? Sei convinto che ti stia implorando?» «Stai attento a dove metti i piedi, Faith. Questo vecchio pazzo ha visto l'ago che avevi piantato nella coscia del ragazzo. Proprio dove avrei appoggiato la mano, eh? La più piccola pressione, e zac! Un ago avvelenato nel palmo del vecchio pazzo. Eh, Faith!» Il barone scosse la testa, pensando. «E avrebbe anche funzionato, se Awat non mi avesse avvertito. Bene, lascia pure che il ragazzo si convinca che mi sia accorto del complotto tutto da solo. In un certo senso, è vero. Io ho salvato Awat dalle rovine di Arrakis, e questo ragazzo deve essere più rispettoso con me. Faith Rauta lottò in silenzio con se stesso. Ha detto la verità. Vuole davvero ritirarsi? E perché no? Sono certo di potergli succedere un giorno, se mi muovo con prudenza. Non può vivere per sempre. Forse è stato stupido da parte mia a cercare di affrettare il processo». «Hai parlato di un patto», disse Faith Rauta. «Che garanzie offri?» «Come possiamo fidarci l'un dell'altro, eh?» Soghignò il barone. «Bene, Faith, per quanto ti concerne, Tufirawat ti sorveglierà. Ho piena fiducia nei suoi poteri di Mentat, capisci? Per quanto mi riguarda, invece, dovrei prendermi sulla parola. Ma non posso vivere eternamente, Faith, non è vero. E forse cominci soltanto adesso a sospettare che esistono cose che io so e che anche tu dovresti sapere». «Se io do la mia parola», insistette Faith Rauta, «che cosa mi offri in cambio? Ti offro di continuare a vivere». E di nuovo Faith Rauta studia suo zio. Mi fa sorvegliare da Awat. Che cosa direbbe se gli rivelassi che è stato Awat in persona, a ideare lo scherzo del gladiatore che gli ha costato il maestro degli schiavi? Probabilmente direbbe che è una menzogna per screditare Awat. No, il bravo Tufir è un Mentat e ha previsto tutto questo». «Ebbene, che cosa ne dici?» chiese il barone. «Che cosa posso dire? Accetto, naturalmente». E Faith Rauta pensò ancora. «A Awat. gioca al centro e mette le estreme una contro l'altra. È così, dunque? È forse passato dalla parte di mio zio perché non mi sono consigliato con lui per la faccenda del ragazzo?» «Non hai fatto commenti sulla sorveglianza da parte di Awat?» disse il barone. Faith Rauta tradì la sua rabbia dilatando le narici. Il nome di Awat era stato per troppi anni un segnale di pericolo per la famiglia degli Arconnen e ora aveva un altro significato, sempre mortale. «A Awat è un giocattolo pericoloso», dichiarò. «Giocattolo? Non essere sciocco. Io so come controllarlo. Awat è soggetto a profonde emozioni, Faith. È l'uomo senza emozioni che dobbiamo temere, ma le emozioni... Ah, chi ha profonde emozioni può essere sempre piegato ai nostri desideri. Zio, non ti capisco. Ma è evidente! Solo un battito di palpebre tradì l'ondata di risentimento di Faith Rauta. «E quando mai hai capito, Awat?» insiste il barone. «E tu, allora?» pensò Faith Rauta. «Su chi riversa il suo odio, Awat, per ciò che è diventato?» chiese il barone. «Su di me?» «Certamente, ma lui era uno strumento degli Atreides e mi ha tenuto a bada per molti anni finché non ho avuto l'impero al mio fianco. Così lui vede le cose. Il suo odio per me oggi è una cosa senza importanza. Crede di potermi vincere in ogni momento. È così? È lui il vinto. Perché dirigo la sua attenzione dove desidero? Contro l'impero!» Faith Rauta corrugò la fronte in un lampo di comprensione. La sua bocca si restrinse in una linea sottile. «Contro l'impero!» «Lascia che tuo nipote lo assapori!» pensò il barone. «Lascia che dica a se stesso, imperatore Faith Rauta Arkonnen. Che si domandi quanto valga tutto questo. Certamente la vita di un vecchio zio capace di realizzarlo.» Lentamente, Faith Rauta si passò la lingua sulle labbra. «Possibile che il vecchio pazzo dicesse il vero. C'era molto più di quanto sembrava a prima vista.» «E Awad? Qual è la sua parte in tutto questo?» domandò. «Crede di usarci come strumenti della sua vendetta contro l'imperatore. E quando sarà compiuta?» Il suo pensiero non va oltre. Awad è uno di quegli uomini che devono servire gli altri, anche se non lo sa. «Ho imparato molto da lui», disse Faith Rauta, e sentì la verità di queste parole. «Ma più imparo, più mi convinco che dovremmo eliminarlo. E subito. Non ti piace l'idea che ti sorvegli?» Awad sorveglia tutti. «E potrebbe metterti sul trono. Awad è astuto, ma è anche pericoloso, tortuoso. Eppure non gli toglierò ancora l'antidoto. Anche una spada è pericolosa, Faith, ma per questa spada, per Awad. Abbiamo un fodero, il veleno che è in lui. Basterà togliergli l'antidoto e la morte lo inghiottirà». «In un certo senso è come l'arena», commentò Faith Rauta, «finte nelle finte e ancora finte. Bisogna osservare il gladiatore, i suoi muscoli, i suoi occhi, il modo in cui impugna il coltello». Annui, quando vide che queste parole piacevano suo zio. «Sì», pensò, «come nell'arena, ma qui è la mente che cala i fendenti». «Vedi ora quanto hai bisogno di me», disse il barone. «Sono ancora utile, Faith. Come una spada che si impugna finché non è del tutto spuntata», pensò Faith Rauta. «Sì, zio. Ora», continuò il barone, «andremo giù nel quartiere degli schiavi e io ti guarderò mentre con le tue mani ucciderai tutte le donne nella stanza del piacere». «Zio». «Ci saranno altre donne, Faith, ma voglio che tu non commetta mai un errore con me senza pagarlo». Il volto di Faith si incubì. «Zio, tu accetterai la tua punizione e ne farai tesoro», ribatté il barone. Faith Rauta incontrò lo sguardo pieno di cupidigia dello zio. «Devo ricordarmi di questa notte», pensò, «è insieme a questa di molte altre notti». «Non ti rifiuterai», disse il barone. «Cosa potresti fare se rifiutassi, vecchio?», si domandò Faith Rauta. «Ma ci sarebbe stato qualche altro castigo, ancora più sottile, qualche altro modo più doloroso di piegarlo al suo volere». «Ti conosco, Faith. Non ti rifiuterai». «D'accordo», pensò Faith Rauta. «Ho bisogno di te adesso, l'ho capito. Il patto è concluso, ma non avrò sempre bisogno di te. Un giorno». Nelle profondità del nostro inconscio c'è un bisogno ossessivo di un universo logico e coerente, ma il vero universo è sempre un passo al di là della logica. Dalla raccolta dei detti di Muad'Dib, della principessa Irulan. «Molti capi di grandi case si sono seduti davanti a me», disse tra sé Tufir Awat. «Ma non ho mai visto un maiale più osceno e pericoloso di questo». «Puoi parlare francamente con me, Awat», tuonò il barone. Era sprofondato nella sua sedia a sospensione. Gli occhi, sepolti tra le pieghe di grasso, sembravano voler trapassare il Mentat. Il vecchio Mentat fece scivolare lo sguardo sul tavolo fra sé e il barone Vladimir Arkonen, e ammirò la grana del legno. Anche questo andava considerato quando si giudicava il barone, insieme con le pareti rosse dello studio privato e col debole odore dolciastro delle erbe che alleggiavano nell'aria, mascherando il cupo sentore di muschio. «Non è stato per un semplice capriccio che mi hai fatto inviare quell'avvertimento a Rabban», continuò il barone. Il volto coriaceo di Awat restò impassibile, senza rivelare la minima traccia del suo disgusto. «Sospetto molte cose, mio signore», disse. «Sì, ebbene, voglio sapere cosa ha a che fare Arrakis con i tuoi sospetti su Salus a Secundus. Non basta che tu mi abbia detto che l'imperatore si agita a causa di una certa relazione tra Arrakis e il suo misterioso pianeta prigione». «Io mi sono affrettato a inviare quell'avvertimento a Rabban soltanto perché il corriere partiva con la prima astronave. Tu mi avevi detto che non era urgente. Benissimo, ma ora esigo una spiegazione». «Chiacchiera troppo», pensò Awat. «Il Ducaleto poteva dirmi una cosa con un semplice gesto della mano o alzando un sopracciglio». E al vecchio duca bastava una sola parola, esprimere un'intera frase. «Questo è uno zotico villano. Distruggerlo sarà rendere un servizio all'umanità intera». «Non te ne andrai di qui finché non mi avrai dato una completa spiegazione», disse il barone. «Voi parlate troppo alla leggera di Salus a Secundus», replicò Awat. «È una colonia penale», dichiarò il barone. «La peggiore feccia della galassia viene scaraventata su Salus a Secundus. Che cos'altro c'è da sapere?». «Le condizioni che regnano sul pianeta prigione sono spaventose», disse Awat. «Le peggiori dell'intera galassia. La mortalità fra i nuovi prigionieri, si afferma, supera il 60%. L'imperatore esercita lassù tutte le forme possibili di oppressione. E voi, che sapete tutto questo, non vi siete mai posto alcuna domanda. L'imperatore non consente alle grandi case di spezionare la sua prigione», grugni il barone. «D'altra parte, neppure lui ha mai visto le mie segrete». «E ogni curiosità a proposito di Salus a Secundus», continua Awat, portando l'indice magro e ussuto alle labbra, «è scoraggiata». «Perché l'imperatore non è affatto fiero di alcune cose che è costretto a fare lassù». Awat consentì che l'ombra di un sorriso gli sfiorasse le labbra macchiate. I suoi occhi scintillarono alla luce della lampada, mentre fissava il barone. «E voi non vi siete mai chiesto dove l'imperatore trova i suoi Sardaukar?». Il barone strinse le labbra grassocce. Così assomigliò a un bambino che tenesse il broncio. Replicò in tono petulante. «Ma perché mai? Li recluta, voglio dire il servizio di leva, gli arruolamenti». «Ah!» l'interruppe Awat. «Le storie che si sentono sulle prodezze dei Sardaukar non sono voci, vero? Sono rapporti di prima mano dei pochi sopravvissuti che li hanno affrontati. Non è così?». «I Sardaukar sono eccellenti soldati, non c'è dubbio», disse il barone. «Ma io sono convinto che anche le mie legioni, una massa di escursionisti spensierati al confronto», ringhiò Awat. «Credete che io non sappia per quale ragione l'imperatore si è scagliato contro la casa Atreides?». «Questo non è un argomento per le tue speculazioni», esclamò il barone. «È possibile che neppure lui conosca i veri motivi dell'imperatore», si chiese Awat. «Qualsiasi argomento è aperto alle mie speculazioni», ribatté. «Se ha una relazione anche minima con l'incarico che voi mi avete affidato. Io sono un Mentat. Non si nasconde alcuna informazione, alcun dato a un Mentat». Per un lungo minuto il barone lo fissò in silenzio. Poi a lui. «Di quello che devi dire, Mentat». L'imperatore Padiscià si è scagliato contro la casa degli Atreides perché i maestri di guerra del duca, Gerni Halleck e Duncan Aidao, avevano addestrato un'unità di combattimento. Una piccola unità, il cui valore sfiorava quello dei Sardaukar. Alcuni uomini erano perfino migliori e il duca stava per accrescere questa unità, rendendola potente quanto le forze dell'imperatore. Il barone soppesò la rivelazione e poi «Qual è la parte di Arrakis in tutto questo?». Il pianeta è una fonte di reclute già condizionate e addestrate a sopravvivere nelle condizioni più difficili. Il barone scosse la testa. «È possibile che tu intenda i Fremen?». «Intendo proprio i Fremen». «Ah! E allora perché avvertire Rabban? Dopo il pogrom dei Sardaukar e la repressione di Rabban è rimasto soltanto un pugno di Fremen». Awat lo fissò in silenzio. «Soltanto un pugno», ripetò il Barone. «Solo l'anno scorso Rabban ne ha uccisi 6.000». E tuttavia Awat continuava a fissarlo. «E l'anno prima 9.000 e i Sardaukar prima di andarsene devono averne massacrati almeno 20.000». «Quali sono state le perdite di Rabban negli ultimi due anni?» chiese Awat. Il barone si sfregò una guaccia. «Beh, ha la mano piuttosto pesante nel reclutare, a dire il vero. I suoi agenti fanno promesse stravaganti e...» «30.000?» disse Awat. «A questo mi sembra un po' troppo», cominciò il barone. «Al contrario!» esclamò Awat. «So leggere tra le righe dei rapporti di Rabban quanto voi, e voi avrete certamente capito quelli dei miei agenti». «Arrakis è un pianeta crudele», disse il barone. «Le sole perdite dovute alle tempeste? Sappiamo entrambi le perdite dovute alle tempeste», l'interruppe Awat. «E allora, anche se avesse perduto 30.000 uomini?» chiese il barone, mentre il sangue gli incubiva il volto. «In base ai suoi stessi calcoli», replicò Awat, «Raban ne ha uccisi 15.000 in due anni, perdendo un numero doppio dei suoi uomini. Voi avete detto che i Sardaukar ne hanno massacrati altri 20.000, probabilmente un po' di più. Io ho visto le lettere di carico delle astronavi che li hanno portati via da Arrakis. Ne hanno uccisi 20.000. Le loro perdite sono state almeno di 5 contro 1. Perché non accettate queste cifre, barone, e non cercate di capire ciò che significano?» Il barone rispose in tono freddamente misurato. «Questo è il tuo lavoro, Mentat. Che cosa significano?» «Vi ho riferito la valutazione compiuta da Duncan Aidao sul numero di quelli che abitavano il Sitch da lui visitato», disse Awat. «Il conto torna. Con 250 Sitch della stessa grandezza, la loro popolazione dovrebbe elevarsi a 5 milioni. Ma una mia stima personale mi ha convinto che i Sitch sono almeno il doppio. Su un simile pianeta, la popolazione è molto dispersa». «10 milioni!» Le guance del barone fremettero per lo stupore. «Come minimo!» Il barone si morse le labbra carnose. I suoi occhi piccoli e brillanti fissavano Awat come succhielli. «È veramente una deduzione da Mentat?» si chiese. «Possibile che nessuno l'abbia mai sospettato?» «Non siamo neppure riusciti a intaccare il tasso delle nascite», riprese Awat. «Tut al più abbiamo eliminato gli esemplari più scadenti, lasciando che i più forti diventassero ancora più forti, proprio come su Salus Asecundus». «Salus Asecundus!» abbaiò il barone. «Che rapporto può esserci tra Arrakis e un pianeta prigione?» «Un uomo che sopravvive su Salus Asecundus è senz'altro più duro degli altri», spiegò Awat. «E quando voi vi aggiungete un buon addestramento militare?» «Che assurdità! Stando ai tuoi ragionamenti, io dovrei reclutare tra i Fremen, visto il modo in cui mio nipote li ha oppressi!» Awat replicò a bassa voce. «Voi non opprimete mai le vostre truppe!» «Ebbene, io... sì!» «L'oppressione è una cosa relativa», continuò Awat. «I vostri soldati stanno molto meglio della gente che li circonda. Hanno sotto gli occhi alternative assai meno piacevoli per chi non è soldato del barone, non è vero». Il barone riflette in silenzio, lo sguardo vacuo, le possibilità. Era possibile che Rabban, senza volerlo, avesse dato alla casa degli Arkonen la sua arma finale. Disse infine «E com'è possibile esser certi della lealtà di queste reclute?» «Io li dividerei in piccoli gruppi, non più grandi di un plotone», disse Awat. «Li toglierei dalla loro condizione di oppressi, e li isolerei insieme con un gruppo di istruttori che capiscano il loro ambiente, gente come loro, che sia appena uscita dallo stesso tipo di oppressione. Poi li impregnerei di un misticismo secondo il quale il loro pianeta è in realtà un campo segreto di addestramento destinato a produrre gli esseri superiori che sono diventati. E mostrerei loro tutto quello che un essere superiore ha il diritto di possedere. Ricchezza, donne bellissime, dimore sontuose, qualsiasi cosa essi desiderino. Il barone a noi, tutto quello che hanno i Sardaukar. Le reclute col tempo si convincono che un pianeta come Salusa Secundus è perfettamente giustificato, perché ha creato l'élite, loro stessi. Sotto molti aspetti anche il minore in grado dei Sardaukar ha un'esistenza esaltante quanto quella di un membro delle grandi case. Che idea, mormorò il barone. Voi cominciate a condividere i miei sospetti, disse Awat. Come una cosa simile ha potuto avere inizio? Volete dire in realtà qual è l'origine della casa di Corrino? C'era forse qualcuno su Salusa Secundus prima che l'imperatore inviasse il primo contingente di prigionieri. Perfino il duca Leto, un cugino dal ramo femminile, non lo seppe mai con certezza. Queste domande non sono mai incoraggiate. Gli occhi del barone scintillarono mentre rifletteva. Sì, un segreto molto ben nascosto. Hanno usato ogni mezzo per... E poi, riprese Awat, che cosa c'è da nascondere? Che l'imperatore Padishah a un pianeta prigione? Tutti lo sanno. Che ci sia il conte Ferring! E ruttò il barone. Awat si interruppe, accigliandosi, e fissò il barone perplesso. Che cosa c'è a proposito del conte Ferring? Per il compleanno di mio nipote, qualche anno fa, disse il barone, questo lacchè dell'imperatore, il conte Ferring, era venuto come osservatore ufficiale per... Sì, per concludere un accordo tra l'imperatore e me. E con questo? Io, durante una delle conversazioni, credo di aver detto qualcosa sulla possibilità di trasformare Arrakis in un pianeta prigione. Ferring, che cosa ha detto esattamente? Chiese Awat. Esattamente, è stato molto tempo fa, e... Mio signore, barone, se volete servirvi di me nel miglior modo possibile, dovete darmi informazioni precise. La conversazione non è stata registrata. Il barone diventò paonazzo per la rabbia. Sei perfido come Peter! Non mi piacciono questi! Peter non è più al vostro fianco, mio signore, disse Awat. A proposito, che cosa è successo a Peter? Era diventato troppo sfacciato, esigente, replicò il barone. Voi mi avete garantito che non avete mai sciupato un uomo che vi fosse utile, continuò Awat. Volete sciuparmi con minacce e inganni? Stavamo parlando di quello che voi avete detto al conte Ferring. Lentamente il barone si ricompose. Quando verrà il momento, si disse, mi ricorderò della tua maleducazione. Oh, sta pur sicuro che mi ricorderò. Un momento, disse, e ripensò all'incontro nel grande atrio. Cercò di visualizzare il cono di silenzio nel quale si erano trovati. Ho detto all'incirca questo. L'imperatore sa che un certo numero di morti ha sempre fatto parte degli affari. Mi riferivo alle perdite tra le nostre squadre di lavoro. Poi ho parlato di un'altra soluzione al problema di Arrakis, dicendo che il pianeta prigione dell'imperatore mi aveva fatto venire l'idea di imitarlo. Sangue di strega, imprecò Awat. E Ferring, che cosa ha risposto? A questo punto ha cominciato a chiedermi informazioni su di te. Awat sprofondò nella sedia, chiudendo gli occhi. Così, è per questo che hanno incominciato a interessarsi di Arrakis. Ebbene, la cosa è fatta. Apri gli occhi. Devono avere spie su tutto Arrakis ormai due anni. Ma non è certo stato il mio innocente suggerimento a... Niente è innocente agli occhi dell'imperatore. Quali istruzioni avete impartito a Rabban? Doveva semplicemente insegnare ad Arrakis a tremare davanti a noi. Awat scosse la testa. Ora, barone, vi restano soltanto due soluzioni. Potete sterminare i nativi, spazzarli via completamente dalla faccia del pianeta? Oppure... Distruggere tutta la mano d'opera? Preferite che l'imperatore e le grandi case di cui gode ancora l'appoggio sbarchino su Gea di primo per una pulizia generale, mettano a ferro e fuoco l'intero pianeta e lasciano al suo posto una zucca vuota? Il barone studiò il suo mentat. Poi disse... Non oserebbe. Davvero? Le labbra del barone tremarono. Qual è l'altra soluzione? Abbandonate il vostro caro nipote, Rabban. Abbandonare... Il barone si interruppe, fissando Awat. Non mandategli più truppe né aiuti di nessun genere. Non rispondete ai suoi messaggi se non per dirgli che vi ha sconvolto il modo orribile in cui ha amministrato Arrakis e che avete intenzione di prendere misure correttive il più presto possibile. Io farò in modo che alcuni di questi messaggi siano intercettati dalle spie imperiali. Ma la spezia, il profitto, il... Esigete i profitti della vostra baronia, ma state bene attento al modo in cui formulerete le vostre richieste. Chiedete una somma fissa a Rabban. Noi possiamo... Il barone alzò le braccia. Ma come posso essere certo che quella volpe di mio nipote non sia... Abbiamo ancora le nostre spie su Arrakis. Dite a Rabban che deve rispettare la sua quota di spezia o sarà esautorato. Conosco mio nipote, replicò il barone. Questo lo spingerà a opprimere ancora di più la popolazione. Ma certamente, esclamò Awat, voi non potete volere che si fermi adesso. Voi volete soltanto una cosa, le mani pulite. Lasciate dunque che sia Rabban a creare per voi questo nuovo Salus a Secundus. Non c'è neppure bisogno di mandargli i prigionieri. Ha a sua disposizione tutto il popolo di Arrakis. Se Rabban spremerà la sua gente per rispettare la quota di spezia, l'imperatore non avrà più alcuna ragione di sospettare altri motivi. La spezia è più che sufficiente per mettere alla tortura un intero pianeta. Quanto a voi, barone, non una sola parola o un solo atto che smentiscano questa convinzione. Il barone non riuscì a cancellare una nota di ammirazione nella propria voce. Awat, quanto sei tortuoso. Ma come potremo penetrare in Arrakis e impadronirci di quello che Rabban ci sta preparando? È la cosa più semplice, barone. Se ogni anno voi aumenterete la quota rispetto all'anno precedente, le cose raggiungeranno presto il limite. La produzione precipiterà a zero. Voi potrete esautorare Rabban e prendere il suo posto per rimediare al disastro. Tutto quadra, disse il barone. Ma io sono stanco di tutto questo. Sto preparando un altro che si occuperà di Arrakis al mio posto. Awat studiò al volto grasso e flaccido davanti a lui. Lentamente il vecchio soldato spia a noi. Feidrauta, borborò. Così, questo è il vero motivo della selvaggia oppressione di Arrakis. Anche voi siete tortuoso, barone. Forse possiamo fondere insieme i due piani. Sì, il vostro Feidrauta può presentarsi come il salvatore di Arrakis. Può guadagnarsi il favore delle masse. Sì. Il barone sorrise e dietro il suo sorriso si domandò. E fino a qual punto questo coincide col piano personale di Awat. Awat capì che il colloquio era finito. Si alzò e lasciò la camera dalle rosse pareti. Allontanandosi non riusciva a dimenticare le inquietanti incognite che sembravano spuntare da ogni parte, in ogni sua speculazione su Arrakis. Il nuovo capo religioso, al quale Gurney Alec aveva accennato dal suo nascondiglio tra i contrabbandieri. Questo Muad'Dib. Forse non avrei dovuto dire al barone che lasci fiorire liberamente questa religione tra le genti del Pan e del Graben, pensò. È noto che la repressione favorisce l'espandersi delle religioni. E ripensò ai rapporti di Alec sulle tattiche di guerriglia dei Fremen. Esse puzzavano dello stesso Alec, di Aidao e perfino di Awat. Aidao è riuscito a sopravvivere, si chiese. Ma era una domanda futile. Non si era ancora chiesto se era possibile che Paul fosse sopravvissuto. Sapeva che il barone era convinto che tutti gli Atreides fossero morti. La strega Benegesserit era stata la sua arma, il barone l'aveva riconosciuto. E questo poteva significare soltanto che erano tutti morti, perfino il figlio di quella donna. quale odio velenoso deve aver avuto quella donna per gli Atreides, pensò. Un odio simile a quello che io provo per questo barone. Il mio colpo finale sarà definitivo come il suo. In tutte le cose c'è un ritmo che è parte del nostro universo. Asimmetria, eleganza e grazia, le qualità in cui si coglie il vero artista. È il ritmo delle stagioni, il modo in cui la sabbia modella una cresta. Sono i rovi Creosoto e il profilo delle foglie. Noi cerchiamo di copiare questi disegni, di trasferirli nelle nostre vite e nella nostra società, di farne rivivere il ritmo, la danza che ci riconfortano. E tuttavia, un pericolo si nasconde nella perfezione finale. È chiaro che lo schema ultimo contiene la sua propria fissità. In questa perfezione ogni cosa procede verso la morte. Dalla raccolta dei detti di Muad'Dib, della principessa Irulan. Paul Muad'Dib ricordò un pasto, carico di spezia. Si afferrò a quel ricordo, che era l'unico ancoraggio sicuro. In base ad esso poteva dirsi che il momento presente doveva essere un sogno. Io sono la scena degli eventi, pensò. Io sono vittima di una visione imperfetta, della coscienza razziale e del suo terribile scopo. E tuttavia, non poteva sfuggire alla paura di essersi in qualche modo superato, di aver perduto la sua posizione nel tempo. Il passato, il presente e il futuro si mescolavano confusamente. Era una specie di affaticamento visivo, il quale era dovuto, lo sapeva, alla necessità costante di mantenere la sua prescenza del futuro come una sorta di ricordo, qualcosa di intrinsecamente legato al passato. Ciani mi ha preparato la cena, si disse. E tuttavia, Ciani era nel profondo sud, nel gelido paese dove il sole bruciava, nascosta in una delle nuove roccaforti sicci, al sicuro con suo figlio, Leto II. O forse era una cosa non ancora accaduta? No, si rassicurò, poiché Alia la Strana, sua sorella, era anche lei laggiù, con sua madre e con Ciani, un viaggio di venti martellatori verso sud, in un palanchino da reverenda madre, fissato al dorso di un creatore selvaggio. Scacciò il pensiero di cavalcare il verme gigante e si chiese, o forse Alia non è ancora nata. Una razzia, ricordò Paul. Ci siamo precipitati a recuperare l'acqua dei nostri morti ad Arrakin e io ho trovato i resti di mio padre sulla pira funeraria. Ho edificato un tempio per il teschio di mio padre nella roccaforte dei Fremen che guarda il passo di Arg. O forse non è ancora accaduto. Le mie ferite sono reali, le mie cicatrici sono reali e anche l'altare col teschio di mio padre è reale. Ancora immerso nel sogno, Paul si ricordò che Ara, la donna di Jamis, un giorno si era precipitata da lui per annunciargli che vi era stato uno scontro nel corridoio del Sitch. Questo era stato nel primo Sitch, quando le donne e i fanciulli non erano ancora stati inviati nel profondo sud. Ara era comparsa sulla soglia della stanza interna, le ali nere dei suoi capelli corvini spinte all'indietro e legate da una catena di anelli d'acqua. Aveva scostato violentemente i tendaggi per dirgli che Chani aveva appena ucciso qualcuno. Questo è realmente accaduto, si disse Paul, non è fatto del mio tempo, non sarà più cambiato. Paul ricordò di essersi precipitato fuori. Aveva incontrato Chani sotto i globi gialli del corridoio, a volte in una tunica azzurra. Il cappuccio gettato all'indietro, ansante, il suo viso da elfo rosso per lo sforzo sostenuto. Stava infilando il Chris nel fodero. Un gruppo d'uomini si allontanava in fretta, calcandosi nel corridoio con un fardello. Si ricordò di aver pensato, si capisce subito quando c'è un corpo da trasportare. Gli anelli d'acqua di Chani tintinnarono quando la fanciulla si voltò verso di lui. Li portava liberamente nel sitch, intorno al collo. Chani, che cosa è accaduto? Ho eliminato qualcuno che era venuto a sfidarti, Usul. Tu lo hai ucciso? Sì, ma forse avrei dovuto lasciarlo ad Ara. E Paul si ricordò della gente intorno a lui, che aveva mostrato di apprezzare queste parole. Perfino Ara era scoppiata a ridere. Ma era venuto a sfidare me? Tu mi hai insegnato l'arte magica, Usul. Certo, ma tu non... Sono nata nel deserto, Usul. So usare un Chris. Paul dominò la collera e si sforzò di parlare con calma. Tutto questo è senz'altro vero, Chani, ma non sono più una bambina che dà la caccia agli scorpioni nel sitch, alla luce di un globo portatile, Usul. Non gioco più. Paul la fissò, corrucciato, colpito dall'improvvisa ferocia rivelata con tanta disinvoltura. Non meritava di sfidarti, Usul. Disse Chani, non avrei disturbato la tua meditazione per uno come lui. Gli si avvicinò, lo guardò di sfuggita e la sua voce divenne un mormorio. E poi, mio amato, quando si saprà che un uomo ha incontrato me e ha fatto una fine ignominiosa per mano della donna di Muad'Dib, saranno ben pochi quelli che oseranno sfidarti. Sì, pensò Paul, questo è certamente accaduto. È il passato autentico e il numero di quelli che volevano sfidare la nuova lama di Muad'Dib è diminuito drasticamente. In qualche luogo, in un mondo che non apparteneva al sogno, ci fu un movimento, il grido di un uccello notturno. Io sto sognando, si disse Paul, è il cibo a base di spezia. Tuttavia, provava ancora questa sensazione di abbandono. Si chiese se non fosse possibile che il suo spirito Ru fosse in qualche modo scivolato nel mondo in cui, secondo i Fremen, egli aveva la sua vera esistenza, l'alam hal mital, il mondo delle similitudini, quel reame trascendente in cui ogni limitazione fisica era annullata. Al pensiero di quel mondo ebbe paura, perché la mancanza di ogni limitazione significava la scomparsa di tutti i punti di riferimento. In questo mitico universo era impossibile orientarsi e dire, io sono io, perché io sono qui. Sua madre gli aveva detto una volta, il popolo è diviso, almeno una parte non sa cosa pensare di te. Devo essere sul punto di svegliarmi, pensò Paul, poiché questo era accaduto. Erano le precise parole di sua madre, lei di Jessica, ora reverenda madre dei Fremen. Queste parole appartenevano alla realtà. Jessica temeva i legami religiosi che si erano instaurati tra lui e i Fremen. Paul lo sapeva. Non le piaceva sapere che il popolo dei Sith e quello del Graben si riferivano a Muad'Dib, come lui. Lei stessa non cessava di interrogare le tribù, disseminando le sue saiaddine, raccogliendo le loro risposte e meditando malincoricamente su di esse. Gli aveva citato un proverbio Bene Gesserit. Quando religione e politica viaggiano sullo stesso carro, i viaggiatori pensano che niente li possa fermare. Vanno sempre più rapidi, rapidi, rapidi. Non pensano agli ostacoli e si dimenticano che un precipizio si era sempre troppo tardi. Paul ricordò di essersi seduto nell'appartamento di sua madre, nella stanza più interna tappezzata di cupi tendaggi ricamati con disegni ispirati alla mitologia Fremen. L'aveva ascoltata, a lungo, notando il modo in cui lei osservava instancabilmente, anche quando abbassava gli occhi. Il suo volto ovale aveva nuove pieghe agli angoli della bocca, ma i suoi capelli risplendevano ancora come il bronzo. I suoi grandi occhi verdi, tuttavia, erano velati dalla sfumatura azzurra della spezia. I Fremen hanno una religione semplice e pratica, lui aveva replicato. Nessuna religione è semplice, lei l'aveva avvertito. Ma Paul, considerando il futuro denso di nubi tempestose che incombevano su di loro, fu travolto dall'ira. Riuscì a dire soltanto, la religione unifica le nostre forze, è la nostra mistica. Tu coltivi deliberatamente quest'atmosfera, lo accusò lei. Non smetti mai di indottrinarli. È quello che mi ha insegnato. Ma quel giorno Jessica era piena di rimproveri e di contraddizioni. Vi era stata la cerimonia della circoincisione del piccolo leto. Paul aveva capito alcune delle ragioni per cui era sconvolta. Sua madre non aveva mai accettato il suo legame, il matrimonio di gioventù con Ciani. Ma Ciani aveva generato un figlio agli Atreides e Jessica non aveva potuto rinnegare il figlio con la madre. Sotto il suo sguardo Jessica aveva reagito. Tu pensi che io sia una madre snaturata? Certamente no. Vedo come mi guardi quando sono con tua sorella. Tu non la capisci. So perché Alia è diversa, replicò Paul. Non era ancora nata, ma parte di te stessa quando hai trasformato l'acqua di vita. Alia, tu non sei niente di tutto questo. E Paul, incapace di spiegare la conoscenza che aveva estratto dal tempo, ribatte soltanto. Non sei una madre snaturata. Jessica capì la sua angoscia e disse, figlio mio, devo confessarti una cosa. Sì? Voglio bene alla tua Ciani. La accetto. Questo era reale, si disse Paul. Non era una visione imperfetta che gli stessi dolori del parto del tempo avrebbero potuto cambiare. Questa sicurezza gli garantì una solida presa sul mondo. Frammenti di realtà comparveno nel suo sogno. Seppe bruscamente di trovarsi in uno Yereg, un accampamento nel deserto. Ciani aveva piantato la sua tenda distillante sulla sabbia farinosa, così morbida. Questo poteva soltanto significare che Ciani era lì vicino. Ciani, la sua anima, la sua siaia, dolce come la primavera del deserto. Ciani tra i palmetti del profondo sud. Ora ricordò la canzone delle sabbie che aveva scelto per l'ora del sonno. Anima mia, non voglio il paradiso questa notte, ma giuro per Shai Ulud che ci andrai ugualmente, ubbidendo al mio amore. E poi aveva intonato il canto di marcia che sulla sabbia univa agli innamorati, il ritmo simile al fruscio delle dune sotto i piedi. Parlami dei tuoi occhi e ti parlerò del tuo cuore. Parlami dei tuoi piedi e ti parlerò delle tue mani. Parlami del tuo sonno e ti parlerò del tuo risveglio. Parlami dei tuoi desideri e ti parlerò della tua sete. In un'altra tenda qualcuno aveva pizzicato un baliset e allora aveva pensato a Gurney Alec. Al ricordo di quella musica familiare aveva pensato a Gurney, di cui aveva intravisto il volto in una banda di contrabbandieri. Gurney invece non l'aveva visto. Non doveva vederlo, per non riaccendere inavvertitamente la caccia degli Arkonen al figlio del duca ucciso. Ma lo stile di colui che suonava quella notte, il tocco delicato di quelle dita sulle corde del Baliset risvegliarono un nome nella memoria di Paul. Quello di Chat il Saltatore, capitano dei Fedai Kin, i commandos suicidi cui era affidata la salvezza di Muad'Dib. Siamo nel deserto, si ricordò. Nell'erg centrale, al di là delle pattuglie degli Arkonen. Sono qui per camminare sulla sabbia, per attirare il creatore e cavalcarlo grazie alla mia astuzia e provare che io sono totalmente un Fremen. Sentì la presenza della pistola Maula alla cintura e del Chris e intorno a sé percepì il silenzio. Era quel silenzio particolare che prelude al mattino, quando gli uccelli notturni si sono già ritirati e le creature del giorno non hanno ancora annunciato il loro risveglio al nemico, il sole. Devi cavalcare sulla sabbia alla luce del giorno, perché Shaiulut veda e sappia che non hai paura. Questo gli aveva detto Stilgar. Così cambieremo le nostre usanze e dormiremo di notte. Lentamente Paul si sollevò. La tuta di stillante gli pendeva slacciata sul corpo. Più avanti la tenda era soltanto un'ombra. si mosse silenziosamente e tuttavia Chani lo udì. Parlò dal buio della tenda, ombra nell'ombra. Non è ancora giorno del tutto, mio amato. Si, aia, disse Paul sorridendo. Tu mi chiami la primavera del deserto, replicò Chani, ma oggi io sarò il tuo pungolo. Oggi io sono la Saiaddina e veglierò che i riti siano rispettati. Paul cominciò ad allacciarsi la tuta. Mi hai ripetuto una volta le parole del Kitab Alibar. La donna è il tuo campo. Vai dunque al tuo campo e coltivalo. Io sono la madre del tuo primo genito. La vide nella grigia penombra che imitava i suoi gesti, stringendo la tuta di stillante per il deserto. Dovresti riposare il più possibile, gli disse Chani. Sentì l'amore nelle sue parole e la rimproverò scherzando. La Saiaddina che osserva non dovrebbe mettere in guardia il candidato. Lei scivolò al suo fianco e gli appoggiò una mano sulla guancia. Oggi io sono quella che osserva, ma anche la tua donna. Avresti dovuto lasciare questo compito a un'altra, disse Paul. L'attesa è troppo terribile. Preferisco essere al tuo fianco. Paul le baciò la mano prima di sistemarsi la tuta sul viso. Poi si voltò e tolse la chiusura alla tenda. L'aria che l'investì era gelida e leggermente umida. Avrebbe lasciato tracce di rugiada sul deserto, all'alba. Aveva il profumo della massa prespezia, quella che avevano scoperta poco lontano, a nord-est, e che aveva rivelato la vicinanza di un creatore. Paul strisciò fuori dall'apertura a sfintere, si rizzò sulla sabbia e contrasse i muscoli per scacciare l'ultima traccia di sonno. Una lieve luminescenza verde per l'acea si disegnava sull'orizzonte, a est. Nella penombra, le tende della sua gente erano come tante piccole dune. Colse un movimento alla sua sinistra, le sentinelle, e seppe che lo avevano visto. Sapevano il pericolo che lui avrebbe affrontato oggi. Tutti i Fremen lo avevano affrontato. Gli accordavano ancora qualche istante di solitudine, perché potesse meglio prepararsi. Deve essere fatto oggi, si disse. Pensò al potere che brandiva contro il Pogrom, i vecchi che ora gli inviavano i propri figli perché li addestrasse al suo magico modo di combattere, i vecchi che lo ascoltavano in consiglio e che seguivano i suoi piani, e che poi ritornavano a fargli il massimo complimento possibile per un Fremen. Il tuo piano è riuscito, Muad'Dib. Tuttavia il più piccolo, il più meschino tra i guerrieri Fremen era cavace di una cosa che lui non aveva mai fatto. E Paul sapeva che la sua autorità ne soffriva per questo, poiché tutti sapevano la differenza tra lui e loro. Non aveva mai cavalcato un creatore. Oh, certo, era montato in groppa con gli altri, in viaggi di addestramento, incursioni, ma non aveva mai viaggiato da solo. Finché non lo avesse fatto, il suo universo sarebbe stato limitato dall'abilità degli altri. Era una cosa, questa, che un vero Fremen non avrebbe mai supportato. Finché non l'avesse fatto, i vasti territori del sud, circa venti martellatori oltre l'Erg, gli sarebbero stati proibiti, a meno che non ordinasse un palanchino, assoggettandosi a viaggiare come una reverenda madre o un ammalato grave. Si ricordò della lunga lotta combattuta durante la notte con la sua coscienza interiore. Colse uno strano parallelismo. Se avesse dominato il creatore, il suo potere si sarebbe rafforzato. Se avesse dominato il suo occhio interiore, avrebbe avuto allora un nuovo potere su se stesso. Ma al di là vi era la zona nebbiosa, la grande turbolenza che sembrava impadronirsi di tutto l'universo. Era ossessionato dai diversi modi in cui percepiva l'universo, confuso e preciso nello stesso tempo. Lo vide in situ. E tuttavia, quando era nato, quando le pressioni della realtà cominciavano ad agire sul tempo, il presente acquistava una propria vita e cresceva con le sue differenze sottili e sfuggenti. Il terribile scopo incombeva e con esso la coscienza razziale e, sopra ogni cosa, il jihad, sanguinoso e selvaggio. Chani lo raggiunse fuori dalla tenda, le braccia strette sul pento. Lo guardò di sfuggita, come faceva sempre per indovinare il suo stato d'animo. «Parlami ancora delle acque del tuo mondo, Usul», gli disse. Paul capì che tentava di distrarlo, di liberare la sua mente da ogni tensione prima della prova mortale. Il cielo era sempre più chiaro e alcuni dei suoi fedai kin stavano già ripiegando le tente. «Preferirei che tu mi parlassi del Sitch e di nostro figlio», disse Paul. «Il nostro leto ti ranneggia sempre mia madre e anche Alia», aggiunse Ciani, «e cresce a vista d'occhio. Com'è il sud? Quando avrai cavalcato il creatore, lo vedrai da solo, ma vorrai vederlo prima attraverso i tuoi occhi. «È un luogo terribilmente solitario», disse Ciani. Paul tese la mano verso la sua fronte e sfiorò la sciarpa Nesoni che le usciva dalla tuta. «Perché non vuoi parlare del Sitch?» «Ne ho già parlato. Il Sitch è un luogo terribilmente solitario senza i nostri uomini. È un luogo per lavorare. Noi passiamo le ore nelle officine. Dobbiamo fabbricare armi, piantare i pali per le previsioni del tempo, raccogliere la spezia per il tributo. Dobbiamo seminare le dune perché la vegetazione vi cresca e le ancori. Dobbiamo confezionare tende e tessuti, caricare le celle a combustibile. Infine vi sono i fanciulli da addestrare, perché la forza della tribù non venga mai meno. Non c'è nulla di piacevole allora nel Sitch. I bambini sono piacevoli. Seguiamo i riti. Abbiamo cibo a sufficienza. A volte una di noi ritorna al nord dal suo uomo. La vita deve continuare. Mia sorella, Alia, è stata accettata dal popolo. Ciani si voltò a guardarlo, alla crescente luce dell'alba. I suoi occhi lo fissarono, tristi. Discuteremo di questo in un altro momento, mio amato. Discutiamone subito. Dovresti conservare le tue energie per la prova. Paul si accorse di aver toccato un punto sensibile. All'improvviso la voce di Ciani parve esitante, lontana. L'ignoto disse alle sue sofferenze. Qualche istante dopo riprese. C'è ancora una certa incomprensione a causa della diversità di Alia. Le donne hanno paura perché è una bambina, quasi una neonata, e parla di cose che solo un adulto dovrebbe conoscere. Non capiscono il mutamento in grembo a sua madre che ha reso Alia diversa. C'è qualche guaio? chiese Paul e pensò. Ho avuto la visione di Alia e dei suoi guai. Ciani fissò l'orizzonte risplendente. Alcune donne si sono unite per appellarsi alla reverenda madre. Le hanno chiesto di esorcizzare il demonio che è in sua figlia. Hanno citato le scritture. Non consentirete che una strega viva tra voi. E cosa ha risposto mia madre? Ha recitato la legge e ha respinto le donne, facendole vergognare. Ha detto, se Alia è fonte di guai, la colpa è dell'autorità che non ha saputo prevederli e impedirli. E ha cercato di spiegare il modo in cui il mutamento ha agito su Alia quando era in grembo a lei. Ma le donne erano furiose perché lei le aveva confuse e se ne sono andate imprecando. Alia provocherà dei disordini, pensò Paul. Uno spruzzo di sabbia cristallina gli sfiorò il viso, portandogli l'odore della prespezia. El Sayal, disse, la pioggia di sabbia che porta il mattino. Il suo sguardo corse sul deserto, nella grigia luminosità dell'alba, sul paesaggio che superava ogni desolazione, su questa sabbia eternamente uguale, l'immagine di se stessa. Un lampo accecante si disegnò in una zona d'ombra, verso sud. Una tempesta giunta al parossismo elettrico. Il rombo del tuono rimbalzò a lungo. La voce che beatifica la terra, disse Ciani. Altri uomini uscivano dalle tende. Le sentinelle ritornavano dai bordi dell'accampamento. Tutto intorno a lui procedeva alla perfezione, secondo l'antica routine che non richiedeva alcun ordine. Dai il minor numero possibile di ordini, gli aveva detto un giorno suo padre, molto tempo fa. Una volta che avrei dato un ordine a proposito di una certa cosa, dovrai ripeterlo continuamente. I fremen conoscevano istintivamente questa regola. Il maestro dell'acqua della truppa intonò il canto del mattino e vi aggiunse le parole rituali per l'iniziazione di un nuovo cavaliere delle sabbie. Il mondo è una carcassa, salmodiò, e il suo lamento riecheggiò tra le dune. «Chi può respingere l'angelo della morte? Ciò che Shaiulud ha deciso deve essere». Paul ascoltò. Queste erano le stesse parole con cui si iniziava il canto della morte dei suoi fedai kin, quello che intonavano lanciandosi nella battaglia. «Vi sarà un nuovo mausoleo di roccia oggi, per celebrare la dipartita di un'altra anima», si chiese Paul. «Forse i fremen faranno tappa, qui, nel futuro, aggiungendo un'altra pietra e pensando a Muad'Dib che morì in questo luogo». Sapeva che questa era una delle alternative possibili, uno dei fatti che si irradiavano nel futuro a partire da quel punto preciso dello spazio-tempo. La visione imperfetta lo tormentava. Più si opponeva al suo terribile scopo e lottava contro l'avvento del jihad, più il turbine si accelerava. Il suo avvenire si trasformava in un fiume che si precipitava dentro un abisso, un groviglio di violenza oltre il quale tutto era nebbia e nuvole. «Stilgar si avvicina», disse Ciani. «Devo separarmi da te, mio amato. Ora devo essere la sajaddina e assistere al rito, perché sia trascritto in tutta la sua verità nelle cronache». Lo fissò e per un attimo si sentì venir meno, poi riacquistò il controllo. «Quando tutto questo sarà finito, ti preparerò la colazione con le mie stesse mani». Poi si voltò, allontanandosi. Stilgar giunse attraverso la sabbia farinosa, sollevando ciuffi di polvere. Le profondità oscure dei suoi occhi fissarono Paul con uno sguardo indomito. La barba nera che affiorava dal bordo della tuta, le guance rugose, tutto sembrava scolpito dal vento nella roccia. Portava lo stendardo di Paul, verde e nero, l'asta del quale nascondeva un tubo d'acqua, una bandiera ormai leggendaria su Arrakis. Con una traccia d'orgoglio, Paul pensò «la più semplice delle cose che io faccio diviene leggenda. Avranno già notato il modo in cui ho congettato Ciani e come accolgo Stilgar, il più piccolo dei miei gesti oggi. Che io muoia o che io viva, sarà sempre una leggenda. Non devo morire, poiché rimarrebbero soltanto la leggenda e nulla più ad arrestare il jihad». Stilgar piantò l'asta della bandiera nella sabbia accanto a Paul e lasciò ricadere le braccia sui fianchi. Gli occhi azzurri nell'azzurro continuarono a fissarlo, indomiti, e Paul pensò che anche i suoi occhi stavano acquistando il colore della spezia. «Ci hanno negato lo Hajj», dichiarò Stilgar con rituale solennità. E Paul rispose, come Ciani gli aveva insegnato. «Chi può negare a un Fremen il diritto di camminare o cavalcare dove vuole?» «Io sono un Naib», disse Stilgar. «Nessuno mai mi prenderà vivo. Io sono un piede del tripode della morte che distruggerà i nostri nemici». Il silenzio calò su di loro. Paul lanciò un'occhiata agli altri Fremen, immobili sulla sabbia oltre Stilgar, immersi nella loro personale preghiera, e pensò che i Fremen erano un popolo che viveva per uccidere, un intero popolo che era sempre vissuto nella rabbia e nel dolore, senza mai pensare che potessero esistere altre cose, fuorché il sogno che Liet Kainz aveva donato ad essi prima di morire. «Dov'è il Signore che ci ha condotto attraverso deserti e abissi?» chiese Stilgar. «È sempre con noi», rispose Reifremen. Stilgar si rattrizzò, si avvicinò a Paul e gli sussurrò. «Ora ricordati quanto ti ho detto. Devi agire nel modo più semplice e diretto, senza alcuna fantasia. Noi Fremen cavalchiamo il Creatore già a dodici anni. Tu hai sei anni di più e non sei nato per questa vita. Non devi impressionare nessuno col tuo coraggio. Sappiamo che sei coraggioso. Devi soltanto chiamare il Creatore e cavalcarlo». «Me ne ricorderò», disse Paul. «Ci conto. Non ho alcun desiderio che la vergogna ricada sul tuo insegnante». Stilgar estrasse dalla veste una bacchetta di plastica lunga circa un metro. Un'estremità era appuntita, l'altra aveva un meccanismo a molla. «Ho preparato io stesso questo martellatore». «È buono, accettalo». Paul sentì nella mano la superficie liscia e cedevole della plastica, e il suo tepore. «Shishakli hai tuoi ami», riprese Stilgar. «Te li darà non appena tu sarai su quella duna, laggiù». Indicò alla sua destra. «Chiama un grosso Creatore, Usul. Mostraci la strada». La voce di Stilgar era insieme solenne e piena dell'inquietudine di un amico. In quell'istante il sole sembra balzare sopra l'orizzonte. Il cielo acquistò la sfumatura grigio-argento che annunciava una giornata torrida. «Ecco il giorno ardente», disse Stilgar, e la sua voce aveva tutta la solennità del rito. «Vai, Usul, e cavalca il Creatore. Solca la sabbia come si addice a un condottiero». Paul salutò il suo stendardo, il quale pendeva inerte. Il vento dell'alba era cessato. Si pendio roccioso con una cresta a forma di S. Già la maggior parte dei Fremen si allontanavano in direzione opposta, risalendo la duna che aveva ospitato l'accampamento. Una figura avvolta nel mantello rimaneva sul sentiero di Paul. Shishakli, un capo dei Fedai Kin. Soltanto i suoi occhi erano visibili, sotto le palpebre fortemente segnate, fra il cappuccio e il bordo della tuta. All'avvicinarsi di Paul gli porse due aste sottili, simili a due fruste. Erano lunghe circa un metro e mezzo e munite di uncini di plastacciaia ad un'estremità e sull'altra di un manico ruvido per facilitare la presa. Paul le afferrò ambedue con la sinistra, secondo il rituale. «Questi sono i miei ami», disse Shishakli, con voce rauca. «Non hanno mai sbagliato». Paul annui in silenzio, come prescritto, superò l'uomo e risalì il pendio della duna. Sulla cresta si guardò indietro e vide i fremen che si spargevano intorno come uno sciame di insetti, sventolando i mantelli. Era solo adesso, in cima alla duna, con l'orizzonte piatto e immobile davanti a lui. Era una buona duna, questa che Stilgar aveva scelto per lui, più alta delle altre, e gli consentiva una vista più vantaggiosa. Legandosi in avanti, Paul piantò il martellatore in profondità sul lato della duna rivolto al vento, dove la sabbia era più compatta e avrebbe consentito una miglior propagazione del rumore. Poi esitò, ripassando mentalmente la lezione e gli imperativi di vita e di morte che doveva affrontare. Non appena avesse schiacciato l'impugnatura a molla, il martellatore avrebbe cominciato a battere il suo appello. In qualche punto, nella profondità della sabbia, un verme gigante, un creatore, l'avrebbe udito e si sarebbe precipitato verso l'origine del rumore. Con le aste uncinate simili a fruste, Paul avrebbe agganciato un anello del verme e sarebbe balzato in groppa al creatore. Finché l'uncino avesse mantenuto aperto il bordo dell'anello, esponendo all'abrasione della sabbia gli strati interni sensibili, il creatore non sarebbe più sprofondato sotto il deserto. Al contrario, avrebbe sollevato il suo corpo gigantesco arquandolo, nel tentativo di allontanare il più possibile dalla superficie sabbiosa al segmento aperto. «Sono un cavaliere delle sabbie», si disse Paul. Fissò gli uncini che stringeva nella mano sinistra. Pensò che avrebbe dovuto soltanto farli scivolare lungo i fianchi ricurvi del gigantesco creatore, per far sì che il verme contraesse il corpo e si curvasse su quel lato, e per poi guidarlo dove voleva. Aveva già visto questa manovra. Lo avevano già fatto salire sul fianco di un verme per brevi cavalcate di allenamento. Il verme catturato poteva essere cavalcato finché non si arrestava esausto tra le dune, e allora bisognava chiamare un nuovo creatore. Una volta superata la prova, Paul sapeva che l'avrebbe autorizzato a compiere il viaggio di venti martellatori fino alle terre del sud, libero di riposarsi nei nuovi sicci e tre palmeti, dove le donne e i bambini erano stati condotti per sfuggire al pogrom. Alzò la testa e guardò a sud, ricordandosi che il creatore che sarebbe sorto dal sud era un fattore ignoto, e che, del resto, anche colui che lo chiamava era nuovo a questa prova. Devi calcolare con cura il suo avvicinamento, gli aveva detto Stilgar. Devi essere abbastanza vicino per poter balzare sulla sua schiena quando ti passerà accanto, e abbastanza lontano per evitare che ti inghiottisca. Con un gesto improvviso, Paul liberò l'impugnatura a molla del martellatore, e il richiamo cominciò a rullare sulla sabbia. Boom, boom, boom. Paul si raddrizzò e scrutò all'orizzonte, e ricordò ancora le parole di Stilgar. Esamina con cura la sua linea di avvicinamento. Ricorda che un verme molto raramente si avvicina a un martellatore senza farsi vedere. In tutti i casi, ascolta. Forse puoi udirlo prima ancora di vederlo. E, al colmo della notte, Ciani, in preda al terrore per lui, gli aveva mormorato. Quando attraversi il sentiero di un creatore, devi restare immobile e silenzioso. Devi essere e pensare come un mucchio di sabbia, nasconditi nel tuo mantello e diventa una duna anche nel tuo intimo. Lentamente, Paul esplorò l'orizzonte, ascoltando, pronto ad osservare i segni che gli erano stati insegnati. Giunse da sud-est, un sibilo lontano, un sussurrio della sabbia. Qualche istante dopo distinse il profilo della creatura che avanzava contro la luce dell'alba, e si rese conto di non aver mai visto un verme così grande, anzi, di non averne mai sentito parlare. La creatura era lunga quasi tre chilometri, e le onde di sabbia sulla sua testa erano come l'avvicinarsi di una montagna. Non ho mai visto niente di simile nella mia vita o nelle mie visioni, pensò. Si precipitò in avanti, verso il segno del verme, interamente assorbito dagli imperativi di questo istante. Controlla la moneta e le alleanze, che la canaglia si diverta col resto. Questo dice l'imperatore Badisha, e aggiunge, se volete profitti, dovete regnare. C'è della verità in queste parole, ma io mi chiedo, chi è la canaglia, e chi sono i regnanti? Messaggio segreto di Muad'Dib all'Ensrad, tratto dal risveglio di Arrakis, della principessa Irulan. Un pensiero non sollecitato si affacciò alla mente di Jessica. Paul sarà sottoposto alla prova dei cavalieri delle sabbie, adesso. Hanno cercato di tenermelo nascosto, ma è fin troppo evidente, e Chani è partita per qualche misteriosa destinazione. Jessica sedeva nella sua camera, approfittando di un breve riposo tra due lezioni notturne. Era una stanza piacevole, ma non così basta come quella che l'aveva ospitata al Sitch Tabar, prima della loro fuga dal pogrom. Tuttavia, i tappeti erano soffici, come pure i cuscini, e vi erano un basso tavolino da caffè e tende multicolori alle pareti. Alcuni globi luminosi irradiavano una dolce luminosità gialla. La stanza era impregnata del lacre, antico odore dei Fremen, un odore che Jessica aveva finito per associare a un senso di sicurezza. E tuttavia sapeva che non sarebbe mai riuscita a superare la sensazione di trovarsi in un luogo straniero, e questa differenza nessun tappeto, nessuna tenda multicolore poteva cancellarla. Un debole rullio, un tintinio le giunsero. Riconobbe il rito che celebrava un parto, quello di Subiai, probabilmente. Il suo momento si avvicinava. Jessica sapeva che molto presto le avrebbero portato il bambino, un cherubino dagli occhi azzurri, perché la reverenda madre lo benedicesse. Sapeva inoltre che sua figlia, Alia, partecipava alla celebrazione e le avrebbe riferito ogni particolare. Non era ancora il momento di recitare le preghiere serali della separazione. Non avrebbero iniziato la celebrazione di una nascita a poca distanza dalle cerimonie in cui avrebbero pianto le razzie di schiavi su Poritrin, Bella Tegeusi, Rossak e Harmon Tep. Jessica sospirò. Sapeva che tentava di non pensare a suo figlio e ai pericoli che doveva affrontare. I Pozzi trappola con gli spuntoni avvelenati, le incursioni degli Arkonen, anche se un po' alla volta queste diventavano più rare, grazie alle nuove armi che Pozzi aveva procurato ai Fremen per abbattere velivoli e predatori. E infine i pericoli naturali del deserto. I creatori, la sede e i crepacci di sabbia. Pensò di chiamare qualcuno per il caffè e nello stesso tempo riflette sul paradosso rappresentato dal modo di vivere dei Fremen, alla comodità di questi sicci, nelle caverne, al confronto dei pion del Graben. E ancora, come resistessero molto più di un qualsiasi mercenario Arkonen, ad uno hashr nel deserto. Una mano bruna si infilò fra le tende al suo fianco, depose una tazza sul tavolino e si ritirò. Dalla tazza si alzò l'aroma del caffè di spezia. Un'offerta per la celebrazione della nascita, pensò Jessica. Prese la tazza e sorseggiò il caffè, sorridendo a se stessa. In quale altra società dell'universo una persona nella mia posizione potrebbe accettare una bevanda anonima e berla senza paura? Si chiese. Ora potrei mutare qualsiasi veleno prima che mi faccia del male, ma il donatore non lo sa. Sorseggiò il caffè caldo e delizioso, assaporando l'energia e il vigore della bevanda. E si chiese quale altra società avrebbe avuto un riguardo così naturale per la sua intimità e per il suo conforto, al punto che il donatore si intrometteva nella sua stanza solo per l'attimo sufficiente a depositare il dono, senza neppure presentarsi a lei. Il dono proveniva dal rispetto e dall'amore, con soltanto una leggerissima punta di paura. Poi un nuovo elemento si chiarì nella sua mente. Lei aveva pensato al caffè, ed esso era venuto. Non aveva nulla a che vedere con la telepatia, lei lo sapeva. Era il Tau, l'unità nella comunità del Sitch, una compensazione dell'elusivo veleno della spezia che tutti assimilavano. La grande massa della gente non avrebbe mai potuto sperare di raggiungere la libertà che le aveva conferito il seme di spezia. Non erano stati né addestrati né preparati. Le loro menti respingevano quello che non potevano capire o accettare, ma a volte essi percepivano e reagivano come un unico organismo. E il pensiero che si trattasse di semplici coincidenze non era mai passato nelle loro menti. Polla subito la prova, si chiese Jessica. È senz'altro capace di superarla, ma gli incidenti colpiscono anche i più bravi. L'attesa è la monotonia, pensò. Non si può aspettare così a lungo. La monotonia, la tristezza, ti sommergono. L'attesa impregnava in molti modi le loro esistenze. Siamo qui da quasi due anni, pensò ancora, e dovrà passare un tempo almeno doppio perché possiamo osare non già di strappare Arrakis al mostro degli Harkonnen, il Mudir Naya, Bistraban, ma soltanto di sperarlo. Reverenda madre, la voce, al di là delle tende, era quella di Ara, l'altra donna nella casa di Paul. Sì, Ara. Le tende si aprirono e Ara sembrò scivolare attraverso il tessuto. Calzava sandali da sic e una tunica rossa e gialla che le lasciava scoperte le braccia, fin quasi alle spalle. I suoi capelli neri erano divisi in mezzo e pettinati all'indietro come le elitre di un insetto, piatti e brillanti contro la sua testa. Il suo profilo aguzzo da uccello da preda era accigliato. Dietro di lei entrò Alia, una bambina di circa due anni. Vedendo la figlia, Jessica fu colpita, una volta di più, dalla somiglianza della bambina con Paul, alla stessa età. Alia aveva gli stessi grandi occhi solenni, interrogativi, i capelli neri e la bocca decisa. Ma c'erano anche impercettibili differenze ed era a causa di esse che la maggior parte degli adulti trovava Alia inquietante. La bambina, poco più di una lattante, si comportava con una calma e una consapevolezza insolite per la sua età. Gli adulti si scandalizzavano quando scoppiava a ridere a un sottile gioco di parole sul sesso. Oppure, prestando orecchio alla sua voce infantile, indistinta a causa del palato soffice non ancora formato, scoprivano nelle sue parole osservazioni maliziose, che certamente non si basavano sulle esperienze di una bambina di due anni. Ara sprofondò in un mucchio di cuscini, con un sospiro esasperato, e si accigliò. Alia, disse Jessica, e invitò la figlia con un gesto a venire avanti. La bimba si avvicinò alla madre, sprofondando a sua volta in un cuscino accanto a lei, e le afferrò strettamente una mano. Il contatto della carne riattivò quella reciproca consapevolezza che avevano condiviso prima della sua nascita. Non era una partecipazione di pensieri, anche se scoccavano lampi tra le loro menti quando Jessica mutava il veleno della spezia durante le cerimonie. Era qualcosa di più grande, l'immediata consapevolezza di un'altra scintilla di vita, qualcosa di acuto e vivido, una risonanza nervosa che le rendeva emotivamente una sola persona. Nel modo formale adatto a un membro della famiglia di suo figlio, Jessica disse, su Ak ulkuhar, Ara, questa notte ti ritrova in salute. Con la stessa tradizionale formalità, Ara rispose, subak un nar, sto bene. Le parole erano prive di qualsiasi sfumatura, sospirò ancora. Jessica sentì che Alia si divertiva. La ganima di mio fratello è in collera con me, disse Alia, col suo leggero balbettio. Jessica avvertì la parola usata da Alia per riferirsi ad Ara, ganima. Nelle sottigliezze della lingua Fremen, questa parola significava qualcosa conquistato in battaglia e il modo con cui era stata pronunciata implicava che il qualcosa non era più usato per il suo scopo originario. Un ornamento, come una punta di lancia usata come contrappeso per una tenda. Ara si accigliò. Non cercare di insultarmi, bambina, io conosco il mio posto. Che cos'hai combinato questa volta, Alia? chiese Jessica. Non solo si è rifiutata di giocare con gli altri bambini, si affrettò a dire Ara, ma si è intromessa nella... Mi sono nascosta tra le tende e ho guardato il figlio di Subiay che nasceva, disse Alia. È un bambino. Piangeva e piangeva. Che polmoni. Quando ha pianto abbastanza, è uscita fuori e lo ha toccato, l'interruppe Ara, e il bambino ha smesso di piangere. Tutti sanno che un figlio dei Fremen deve piangere alla nascita, nel Sitch, perché non possa più piangere e tradirci durante uno Ashr. Aveva pianto abbastanza, ribatte Alia. Volevo soltanto sentire la sua scintilla vitale. È tutto. E quando mi ha sentito, non ha più voluto piangere. Tutto questo ha provocato nuove chiacchiere, replicò Ara. Il figlio di Subiay è sano, chiese Jessica. C'era qualcosa che preoccupava profondamente, Ara. Sano quanto una madre può desiderare, disse Ara. Sanno che Alia non gli ha fatto alcun male. Non gli importa poi tanto che lo abbia toccato. Si è calmato subito ed era felice. Ma... Ara scrollò le spalle. È la diversità di mia figlia, no? chiese Jessica. È il modo in cui parla di cose che non dovrebbero riguardarla se non tra molti anni. E di altre che dovrebbe ignorare, cose del passato. Come può sapere qual era l'aspetto di un bambino su Bella de Geusi? domandò Ara. Ma era così, ribatte Alia. Il figlio di Subiay era identico al figlio di Mita, che è nato prima della partenza. Alia! gridò Jessica. Ti ho avvertita. Madre, l'ho visto ed era vero. Il... Jessica scosse la testa. Lesse sul volto di Ara l'inquietudine. Che cosa ho generato? si chiese. Mia figlia, quando è nata, già sapeva tutto quello che io sapevo. E anche di più. Tutto le è stato rivelato nei corridoi del passato, dalla reverenda madre dentro di me. Non sono soltanto le cose che dice, riprese Ara. Ci sono anche gli esercizi. Il modo in cui si siede e fissa una roccia, muovendo soltanto un muscolo accanto al naso, o un dito, o... Questo fa parte dell'addestramento Bene Gesserit, l'interruppe Jessica. Tu lo sai, Ara. Vorresti negare a mia figlia la sua eredità? Reverenda madre, tu sai che queste cose non hanno importanza per me, ma si tratta del popolo e del modo in cui mormora. Sento il pericolo. Dicono che tua figlia è un demonio, che gli altri bambini si rifiutano di giocare con lei, che tua figlia è... ha così poco in comune con gli altri bambini. Disse Jessica. Non è un demonio. È soltanto... Certo che non lo è. Jessica fu sorpresa dalla vehemenza di Ara e lanciò un'occhiata alla figlia. Alia sembrava perduta tra i suoi pensieri. Irradiava come un'impressione di attesa. Jessica guardò nuovamente Ara. Io ti rispetto perché fai parte della famiglia di mio figlio, disse. Alia si agitò contro la sua mano. Puoi confidarmi tutto ciò che ti tormenta. Ben presto non farò più parte della famiglia di tuo figlio, replicò Ara. Se ho atteso fino ad oggi è stato soltanto per il bene dei miei figli, per la speciale educazione che ricevono in quanto figli di Usul. C'è ben poco che io possa fare per loro poiché è risaputo che non divido il letto di tuo figlio. Ancora una volta Alia si agitò accanto alla madre, mezzo addormentata. Tu sei stata tuttavia una buona compagna per il mio figlio, disse Jessica, e aggiunse nella sua mente, poiché questi pensieri non l'abbandonavano mai. Una compagna, non una sposa. Poi i suoi pensieri si concentrarono sui pettegolezzi del Sic, su quello che più l'addolorava, il legame di Paul con Chani, che si era trasformato in matrimonio. Io amo Chani, pensò, ma nel medesimo istante si ricordò che l'amore avrebbe dovuto annullarsi davanti alla necessità del trono. Nei matrimoni dei nobili c'erano ben altre ragioni che l'amore. Tu credi che io ignori quello che hai in mente per tuo figlio? Domandò Ara. Cosa vuoi dire? Tu stai progettando di unire le tribù sotto di lui. Ed è male questo. Vedo un pericolo per lui, e Alia fa parte di questo pericolo. Alia si accoccolò tutta contro la madre, aprì gli occhi e guardò Ara. Vi ho osservato quando siete insieme, proseguì Ara, il modo in cui vi toccate. Alia è carne della mia carne perché è sorella di un uomo che è come un fratello per me. L'ho vegliata e custodita fin da quando era una poppante, dai giorni della razzia, quando siamo fuggite qua giù. Sono molte cose di lei. Jessica Annui sentì crescere l'agitazione di Alia al suo fianco. Tu sai quello che voglio dire, continuò Ara. Il modo in cui ha sempre saputo quello che stavamo per dirle. Si è mai visto un bambino che sapesse già tutto della disciplina d'acqua? Le sue prime parole sono state, ti voglio bene Ara. Punto gli occhi su Alia. Perché credi che io accetti i suoi insulti? So che non c'è malizia nelle sue parole. Alia alzò lo sguardo sulla madre. Se io so ragionare, reverenda madre, disse ancora Ara, avrei potuto essere una iadena. Ho visto quello che ho visto. Ara, Jessica alzò le spalle. Non so che cosa dirti. E provò sorpresa, perché era vero. Alia si raddrizzò, irrigidi le spalle. Jessica percepì la fine dell'attesa, un'emozione fatta di tristezza e di decisione. Abbiamo commesso un errore, disse Alia. Ora abbiamo bisogno di Ara. È stato durante la cerimonia del seme, spiegò Ara. Quando hai cambiato l'acqua della vita, reverenda madre, quando Alia era dentro di te, non ancora nata. Abbiamo bisogno di Ara, si chiese Jessica. Chi altri può parlare alla gente e far sì che comincino a capirmi, chiese Alia. Cosa vuoi che faccia, disse Jessica. Lei lo sa già, replicò Alia. Dirò a tutti la verità, disse Ara. Il suo viso sembrò improvvisamente vecchio e triste, la pelle olivastra segnata da una fitta rete di rughe, il profilo simile a quello di una strega. Dirò a tutti che Alia fa finta di essere una bambina, che non è mai stata bambina. Alia scosse la testa. Aveva le guance bagnate di lacrime e Jessica sentì un'ondata di tristezza che emanava da sua figlia come se l'emozione travolgesse lei stessa. Io sono un mostro, lo so, bisbigliò Alia. E questa frase di adulto nella bocca infantile di sua figlia fu per Jessica una terribile conferma. Tu non sei un mostro, la rimbeccò aspramente Ara. Chi ha osato pretenderlo? Ancora una volta Jessica si stupì del feroce accento protettivo nella voce di Ara, e si rese conto che il giudizio di sua figlia rispondeva a verità. Avevano bisogno di lei. La tribù avrebbe capito Ara e le sue parole come le sue emozioni, poiché era evidente che amava Alia come se fosse stata sua figlia. Chi ha osato? Ripetè Ara. Nessuno. Alia si asciugò le lacrime con un angolo dell'aba di Jessica. Poi lisciò la veste che aveva bagnato e spiegazzato. E allora non dirlo, lentimò Ara. Sì, Ara. Ora, dimmi com'è stato, poiché io possa descriverlo agli altri. Dimmi che cosa ti è accaduto. Alia deglutì e fissò sua madre. Jessica annui. Un giorno, disse Alia, mi sono svegliata. Ebi l'impressione di aver dormito, ma non mi ricordavo di niente. Era in un luogo caldo e oscuro e avevo paura. Ascoltando la voce balbettante di sua figlia, Jessica si ricordò della grande caverna. Avevo paura, continuò Alia. Cercai di fuggire, ma era impossibile. Vidi allora una scintilla, o piuttosto non la vidi. La scintilla era lì, con me, e io percepivo le sue intenzioni. Mi confortava, mi calmava, mi diceva che tutto sarebbe andato bene. Era mia madre. Ara si sfregò gli occhi e sorrise ad Alia per rassicurarla. Tuttavia, c'era una luce selvaggia negli occhi della Fremen, come se anch'essi ascoltassero avidamente il racconto. E Jessica riflettè. Come possiamo sapere veramente i pensieri di mia figlia? Un'esperienza, una discendenza, un addestramento irripetibili. E allora, quando mi sentii finalmente tranquilla e rassicurata, riprese Alia, un'altra scintilla ci raggiunse. Tutto nel medesimo istante. La nuova scintilla era la reverenda madre. Lei scambiava la sua vita con mia madre. Tutto. E io ero con loro, e vedevo tutto, ogni cosa. E poi tutto finì. E io fui loro, e tutte le altre, e me stessa. Soltanto impiegai molto tempo a ritrovare me stessa fra tante altre. È stato crudele, esclamò Jessica. Nessuno dovrebbe risvegliarsi alla coscienza in questo modo. C'è da stupirsi che tu sia riuscita ad accettare tutto quello che ti è accaduto. Non potevo fare altro, gridò Alia. Non sapevo come respingerlo, o nascondere la mia coscienza, isolarla. Tutto è accaduto così. Tutto noi non sapevamo, disse Ara. Quando abbiamo dato a tua madre l'acqua perché la mutasse, non sapevamo che tu esistevi dentro di lei. Non rattristarti per questo, replicò Alia. Non c'è ragione di dispiacerti per me. Dopotutto potrei anche essere felice per tutto questo. Io sono una reverenda madre. La tribù ha due ref... Si interruppe e piegò la testa per ascoltare. Ara la fissò, stupita, poi si voltò verso Jessica. Non l'avevi capito, disse Jessica. Fece Alia. Un canto ritmato si udì in distanza attraverso i tendaggi che la separavano dai corridoi del Sitch. Crebbe di volume, si fece più distinto. I cantori sfilarono davanti all'ingresso esterno e le loro voci rimbombarono in tutte le stanze. Lentamente il canto si allontanò. Allora Jessica iniziò il rituale. La tristezza risuonò nella sua voce. Era Ramadan e aprile su Bella Tegeusi. La mia famiglia era seduta in cortile, disse Ara, accanto alla fontana in cui Zampillo impregnava l'aria di umidità. C'era un albero di portigols lì accanto, rotondo e cupo, e un paniere con mish-mish e baklava e coppe colme di Liban. Tutte cose eccellenti da mangiare. E la pace regnava sui nostri giardini, sui nostri animali e su tutta la terra. La vita era piena di gioia finché non vennero i razziatori, disse Alia. Il sangue si raggelò alle urla dei nostri amici, disse Jessica. Jessica sentì affluire i ricordi di tutti i passati che erano in lei. La, 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 gridavano le donne, disse Ara. I razziatori sorsero dal mushtamal, precipitandosi su di noi con loro coltelli arrossati dal sangue dei nostri uomini, disse Jessica. Un silenzio improvviso le avvolse e ogni appartamento del Sitch le donne ricordarono e rinnovarono il dolore. Qualche istante dopo, Ara pronunciò le ultime parole del rito, con una durezza che Jessica non aveva mai udito. Mai perdonare! Mai dimenticare! Nella quiete pensosa che seguì queste parole, udirono un brusio e il fruscio di molti mantelli. Jessica percepi la presenza di qualcuno dietro le tende che avvolgevano la sua stanza. Reverenda madre! Una voce di donna. Jessica la riconobbe. Era la voce di Tartar, una delle mogli di Stilgar. Che cosa c'è, Tartar? Ci sono guai, reverenda madre. Jessica sentì una stretta al cuore, un'improvvisa paura per suo figlio. Pulla, balbettò. Tartar scostò le tende ed entrò nella stanza. Jessica ebbe una rapida visione della folla che si accalcava nella camera più esterna, prima che le tende ricadessero. Fissò a Tartar, una donna minuscola, bruna di pelle, avvolta in un mantello nero decorato di rosso. A sua volta, Tartar fissò Jessica con occhi completamente azzurri. Nelle sue narici erano visibili i segni dei filtri. Che cosa succede? domandò Jessica. Sono giunte notizie dalla sabbia. Usul affronterà la prova del creatore. Oggi, i giovani dicono che non può fallire, che prima del calare della notte sarà cavaliere delle sabbie. I giovani si stanno adunando per una razzia. Faranno un'incursione al nord e lassù incontreranno Usul. Dicono che lanceranno il grido, allora. Dicono che li obbligheranno a sfidare Stilgar e ad assumere il comando della tribù. Raccogliere l'acqua, seminare le dune, trasformare il pianeta, lentamente ma sicuramente. Questo non basta più, pensò Jessica. Le piccole, sicure razzie. Questo non è più sufficiente, ora che li abbiamo addestrati, Paul ed io. Sentono la loro forza. Vogliono combattere. Tartar si appoggiò su un piede, poi su un altro. Si schiari la gola. Noi sappiamo che bisogna aspettare prudentemente, pensò ancora Jessica. Ma c'è in noi questo nucleo di frustrazione. bene. Sappiamo il danno che può derivarci da un'attesa troppo prolungata. Se aspettiamo troppo, rischiamo di dimenticare il nostro scopo. I giovani dicono che se Usul non sfiderà Stilgar, vorrà dire che ha paura, aggiunse Tartar. Abbassò lo sguardo. Allora è così, mormorò Jessica. E pensò. Ne avevo visto i segni. E anche Stilgar. Ancora una volta Tartar si schiarì la gola. Perfino mio fratello, Soab, lo dice. Non lascerà a Nausul altra scelta. Allora il momento è giunto, pensò Jessica. E Paul dovrà cavarsela da solo. La reverenda madre non può essere coinvolta nella successione. Alia si staccò dalla mano di sua madre e disse. Io andrò con Tartar e ascolterò quello che dicono i giovani. Forse c'è un modo. Jessica incontrò gli occhi di Tartar e disse ad Alia. Vai allora e riferiscimi tutto appena puoi. Non voglio che accada questo, reverenda madre, fece Tartar. Neanch'io lo voglio, disse Jessica. La tribù ha bisogno di tutte le sue forze. Guardò Ara. Andrai con loro? Ara rispose alla domanda inespressa. Tartar non farà nulla contro Alia. Lei sa che presto saremmo mogli insieme, lei ed io, per dividerci lo stesso uomo. Abbiamo parlato, Tartar e io. Ara fissò Tartar, poi si rivolse nuovamente a Jessica. C'è un accordo tra noi. Tartar porse la mano ad Alia e disse. Dobbiamo affrettarci, i giovani stanno partendo. Uscirono in fretta sollevando i tendaggi, la mano della bambina stretta in quella minuscola della donna, ma era la bambina che sembrava guidare. Se Paul Muaddi bucciderà Stilgar, questo nuocerà gli interessi della tribù, disse Ara. La successione dei capi si è sempre svolta in questo modo, ma i tempi sono cambiati. I tempi sono cambiati anche per te, fece Jessica. Come puoi pensare che io dubiti dell'esito di una simile lotta? Usul può soltanto vincere. Questo volevo dire. Tu credi che i miei sentimenti personali possano influenzare il mio giudizio? Replicò Ara. Scosse la testa, facendo tintinnare gli anelli d'acqua intorno al collo. Come ti sbagli. Pensi anche che io mi dispiaccia per non essere stata scelta da Usul, che io sia gelosa di Ciani. Ognuno fa la propria scelta, disse Jessica. Ho pietà di Ciani. Jessica si irrigidì. Che cosa vuoi dire? So quello che pensi di Ciani, disse Ara. Tu pensi che non sia la moglie adatta a tuo figlio. Jessica si rilassò e si distese sui cuscini. Forse. Potresti aver ragione, continuò Ara. E se ciò fosse vero, potresti trovare un sorprendente alleato nella stessa Ciani. Per lui, lei desidera soltanto il meglio. Jessica sentì un improvviso nodo alla gola. Ciani mi è molto cara, replicò. Non potrebbe. I tuoi tappeti sono molto sporchi, disse Ara. Fece scorrere il suo sguardo sul pavimento, evitando gli occhi di Jessica. Tanta gente viene qui. Dovresti farli pulire più spesso. Non si può evitare l'influenza della politica in seno ad una religione ortodossa. La lotta per il potere permea l'educazione, l'addestramento e la disciplina di una comunità ortodossa. A causa di questa pressione, i capi di una simile comunità devono affrontare inevitabilmente l'ultimo dilemma interiore. Soccombere al più completo opportunismo per conservare il loro potere o rischiare di sacrificare se stessi nel nome dell'etica ortodossa. Dai, detti religiosi di Muad'Dib, della principessa Irulan. Immobile sulla sabbia, Paul aspettava il creatore. Non devo attendere come un contrabbandiere, fremendo d'impazienza. Si disse, devo essere parte del deserto. L'essere era a pochi minuti di distanza ormai e riempiva il mattino del fragoroso crepitio della sabbia. I suoi enormi denti, nell'immensa caverna che era la sua gola, si disegnavano come un grande fiore. L'odore di spezia che emanava dal suo corpo era sempre più intenso. La tuta distillante aderiva perfettamente al corpo e Paul a stento percepiva i tamponi al naso, la maschera per l'aria. Gli insegnamenti di Stilgar, le ore trascorse all'agguato sulla sabbia, cancellavano nel suo ricordo ogni altra cosa. Nella sabbia a ciottoli, a quale distanza devi restare dal raggio d'azione del creatore? Gli aveva chiesto Stilgar. E lui aveva risposto correttamente. Mezzo metro per ogni metro di diametro del creatore. Perché? Per evitare il vortice al suo passaggio, ma avere ugualmente il tempo per correre e balzargli sulla schiena. Tu hai già cavalcato i più piccoli, quelli allevati per il seme e l'acqua della vita, aveva detto Stilgar. Ma quello che chiamerai per la tua prova sarà un creatore selvaggio, un vecchio del deserto. Devi mostrare rispetto a un simile essere. Ora, il profondo rumore del martellatore si mescolava allo stridio del verme in avvicinamento. Paul respirò profondamente, odorando il gusto amaro e minerale della sabbia perfino attraverso i filtri. Il creatore selvaggio, il vecchio del deserto, era quasi su di lui. Il suo segmento frontale, crestato, sollevava un'onda di sabbia che l'avrebbe ben presto investito. Vieni dunque, adorabile mostro, pensò. Non senti il mio richiamo. Vieni. Vieni. L'onda sollevò la duna sotto i suoi piedi. Un turbinio di polvere l'investì. Irrigiti le gambe, mentre l'intero suo universo, ormai, era dominato dal passaggio dell'immensa parete ricurva offuscata dalla sabbia. Una roccia vivente segmentata. Paul sollevò gli ami, prese la mira, si piegò in avanti e li lanciò. Li sentì mordere. Una violenta strappata. Balzò in alto, piantando i piedi contro la parete ricurva, piegandoli in fuori per farli meglio aderire. Era il momento culminante della prova. Se aveva piantato gli uncini al posto giusto, sull'orlo anteriore dell'anello, divaricandolo, il verme non si sarebbe più rotolato su se stesso, schiacciandolo. Il verme rallentò, scivolò sul martellatore e lo frantumò, e lentamente cominciò a incurvarsi verso l'alto, in alto, sollevando gli ami che gli irritavano la carne il più in alto possibile, lontano dalla sabbia che minacciava le soffici membrane interne di quel segmento anulare. Paul si trovò a cavalcare, eretto, in cima al verme, esultando come un imperatore davanti al suo universo. Lottò contro il desiderio di mettersi a danzare lassù, di far girare il verme, di dimostrare il completo dominio che aveva sulla creatura. Improvvisamente capì perché Stilgar l'aveva messo in guardia, parlandogli di quei giovani folli che danzavano e giocavano coi mostri, sul loro dorso, staccando entrambi gli uncini e piantandoli di nuovo prima che il verme riuscisse a scrollarseli di dosso. Paul lasciò un uncino al suo posto e tolse il secondo, piantandolo più in basso sul fianco. Ne saggiò la presa e quando fu ben sicuro calò più in basso anche l'altro e in questo modo discese a metà del fianco. Il creatore si incurvò nuovamente e così facendo girò, dirigendosi verso il tratto di sabbia farinosa dove i fremen aspettavano. Paul li vide balzare, uno dopo l'altro, sul mostro, scalandolo con gli uncini, evitando però i bordi sensibili degli anelli finché non furono in cima. Alla fine, cavalcarono il verme su una triplice fila, dietro di lui, saldamente aggrappati. Stilgar avanzò fra i ranghi, controllò la posizione degli uncini di Paul e rispose al suo sorriso. «Ci sei riuscito, eh?» gli disse, alzando la voce per sovrastare il crepitio della sabbia. «È quello che tu credi, dunque?» si raddrizzò. «Ora io ti dico che il tuo è stato un pessimo lavoro. Un ragazzo di dodici anni l'avrebbe fatto meglio. C'era un tamburo delle sabbie alla sinistra del punto dove aspettavi. Non avresti trovato scampo su quel lato se il verme si fosse precipitato su di te». Il sorriso sparì dal borto di Paul. «Avevo visto il tamburo». «E allora perché non hai chiesto a uno di noi di prendere posizione dietro di te? Anche durante una prova è consentito». Paul inghiottì e offrì il suo viso al vento che si bilava intorno. «Pensi che non sia giusto da parte mia dirlo ora», continuò Stilgar. «Ma è il mio dovere. Il tuo valore è troppo grande per noi. Se tu fossi finito sul tamburo, il creatore si sarebbe precipitato su di te». Nonostante l'impeto di rabbia, Paul sapeva che Stilgar diceva la verità. Gli ci volle un intero minuto e tutto l'addestramento ricevuto da sua madre per riacquistare la calma. «Mi scuso», disse. «Non accadrà mai più». «In una posizione difficile fatti sempre aiutare da un altro, da qualcuno che possa balzare sul creatore se non puoi farlo tu. Ricordati che noi lavoriamo sempre insieme. Soltanto così siamo sicuri. Insieme. D'accordo?» Batte una mano sulla spalla di Paul. «Insieme», ripetè Paul. «Ora», disse Stilgar, e la sua voce era dura. «Fammi vedere come sai manovrare un creatore. Su quale lato ci troviamo?» Paul guardò giù, lungo la superficie scagiosa dell'anello. Notò la forma e la grandezza delle scaglie, il modo in cui si allargavano alla sua destra e si restringevano a sinistra. Ogni verme, lui lo sapeva, si muoveva in modo caratteristico e rivolgeva quasi sempre lo stesso lato verso l'alto. Quando il verme invecchiava, il lato superiore non cambiava più. Le scaglie in basso diventavano più pesanti, più larghe e lisce. Su un grosso verme bastava una sola occhiata alle scaglie per identificare l'alto e il basso. Paul mosse gli uncini e si portò più a sinistra. Fece un gesto a due uomini al suo fianco che si portarono sul segmento aperto per mantenere il verme in linea retta. Quindi invitò due timonieri a uscire dalle file e a farsi avanti. «Ach! Aio!» urlò Paul, il grido tradizionale. Il timoniere di sinistra divaricò il bordo dell'anello. Per proteggerlo, il verme si incurvò maestosamente. Fece un giro completo e quando fu diretto nuovamente a sud, Paul urlò «Keyrat!». Il timoniere tolse l'uncino. Il creatore proseguì la corsa in linea retta. «Molto bene, Paul Muadib», disse Stilgar. «Con la pratica potrai diventare anche tu un cavaliere delle sabbie». Paul si rabbuiò. «Non sono stato io il primo a salirgli in groppa». Alle sue spalle si innalzò un improvviso scoppio di risa e la truppa cominciò a cantare «Muadib! Muadib! Muadib!» e molto più indietro, sulla superficie del verme, Paul udì i pungolatori che battevano sui segmenti di coda. Il verme accelerò. I mantelli sbattevano al vento e il crepitio della sabbia crebbe di intensità. Paul si voltò a guardare i fremen e colse il volto di Ciani tra loro. La fissò mentre chiedeva Stilgar. «E allora? Sono un cavaliere delle sabbie?» «Halliavam! Tu sei un cavaliere delle sabbie. Allora posso scegliere la nostra destinazione?» «Così vuole l'usanza». «E io sono un fremen, nato qui, oggi, sull'erg di Abbania. Non ho mai viaggiato fino ad oggi. Era un bambino». «Non proprio un bambino», replicò Stilgar. Strinse un angolo del cappuccio che sbatteva il vento. «Ma c'era un sigillo che mi impediva di uscire nel mio universo. Quel sigillo oggi è stato strappato. Non c'è più alcun sigillo». «Io voglio andare a sud, Stilgar. Venti martellatori. Vedrò così il paese che stiamo edificando, la terra che ho visto soltanto attraverso gli occhi degli altri. E vedrò mio figlio e la mia famiglia». pensò. «Ho bisogno di tempo ora per esaminare questo futuro che nella mia mente è un passato. Il turbine si avvicina e se non riuscirò a fermarlo si scatenerà in tutta la sua violenza selvaggia». Stilgar lo osservò, pensoso. Paul continuò a fissare Ciani, leggendo sul suo viso il riflesso dell'eccitazione che le sue parole avevano risvegliato nella truppa. «Gli uomini fremono dall'impazienza di compiere una razza con te, nei sink degli Arkonen», disse Stilgar. «I sink si trovano a un solo martellatore da qui». «I fedaikin hanno già combattuto insieme a me», replicò Paul, «e combatteranno ancora finché non vi saranno più Arkonen a respirare l'aria di Arrakis». Stilgar lo guardò a lungo e Paul capì che stava pensando al modo in cui aveva assunto il comando del Sitch Tabar e del consiglio dei capi dopo la morte di Liet Kynes. «Certamente ha sentito dell'agitazione che regna tra i giovani fremen», pensò Paul. «Vuoi una riunione dei capi?», domandò Stilgar. Gli occhi dei giovani dietro di lui lampeggiarono mentre continuavano a cavalcare il verme nella sua folle corsa. Ciani lo fissò in quieta, facendo passare il suo sguardo da Paul Muadib, che era il suo compagno, a Stilgar, che era suo zio. «Non puoi sapere ciò che voglio», disse Paul, e pensò «non posso rifiutarmi, devo mantenere il mio controllo su questa gente». «Tu sei il mudir delle sabbie oggi», disse Stilgar. La sua voce risuonò fredda, formale. «Come userai il tuo potere?». «Abbiamo bisogno di tempo per rilassarci, per riflettere con calma», pensò Paul. «Andremo a sud», dichiarò. «Anche se io dico che dovremmo ritornare al nord non appena questa giornata avrà fine. Noi andremo a sud», ripetei Paul. Una ineluttabile dignità circondò Stilgar, mentre si avvolgeva strettamente nel mantello. «La riunione avrà luogo», disse. manderò i messaggi. «Crede che io voglia sfidarlo», si disse Paul, «e sa che non può vincermi». Si voltò verso il sud, nel vento che gli frustava il viso, pensando a tutti gli obblighi che avrebbero condizionato le sue decisioni. «Ignorano la verità», disse ancora dentro di sé. Sapeva che non doveva lasciarsi fuorviare da nessuna considerazione. Ad ogni costo doveva mantenersi sul cammino di questo uragano del tempo che aveva visto nel futuro. A un preciso istante sarebbe stato possibile dominarlo, ma soltanto se lui fosse potuto balzare nel cuore stesso del turbine. «Non lo sfiderò, se potrò evitarlo», pensò Paul. «Se ci sarà un altro modo di impedire il jihad». «Per il pasto serale e la preghiera ci fermeremo nella grotta degli uccelli, oltre la catena di Abbania», disse Stilgar. Piantò un uncino per bilanciare l'ondeggiamento del creatore e indicò una lontana barriera rocciosa che sorgeva dal deserto. Paul studiò il dirupo, le rocce che si innalzavano come onde gigantesche. Non c'era alcuna traccia di verde, nessun fiore che ammorbidisse quell'orizzonte spietato. Al di là della montagna si apriva la via del sud, dieci giorni e dieci notti almeno, alla massima velocità possibile di un creatore. Venti martellatori. Il cammino li avrebbe condotti molto lontano dalle pattuglie degli Arkonen. Sapeva come sarebbe stato, lo aveva visto nei sogni. Un giorno, continuando a procedere verso il sud, vi sarebbe stato un lieve cambiamento di colore all'orizzonte, un cambiamento quasi impercettibile, un'illusione quasi, dovuta alla speranza. E poi avrebbe raggiunto il nuovo sicci. La mia decisione conviene a Muad'Dib, chiese Stilgar, una lievissima sfumatura di sarcasmo nella sua voce, ma le orecchie dei Fremen intorno a loro, pronte a cogliere le minime variazioni nel grido di un uccello o nel messaggio pigolato da un sielago, udirono il sarcasmo e fissarono Paul in attesa della sua reazione. Quando abbiamo consacrato i fedei Keen, Stilgar ha udito il mio giuramento di fedeltà, disse Paul. I miei commandos della morte sanno che io ho parlato con onore. Forse Stilgar ne dubita? Vi era un sincero dolore nella voce di Paul. Stilgar lo sentì e abbassò gli occhi. Io non dubiterò mai di Usul, il compagno del Sic, ma tu sei Paul Muad'Dib, il duca Atreides e Ilisan Algaib, la voce di un altro mondo. Questi io non li conosco. Paul alzò gli occhi e fissò la catena di Abbania, che spiccava sempre più alta sul deserto. Il verme sotto di loro era ancora pieno di forza e di volontà. Avrebbe potuto trasportarli a una distanza più che doppia di qualsiasi altro verme. Lui lo sapeva. Niente, neppure nelle favole che si raccontavano ai bambini, poteva essere paragonata a questo vecchio del deserto. Questo verme, lo capì all'istante, avrebbe creato una nuova leggenda. Una mano gli afferrò la spalla. Paul la guardò e seguì il braccio fino al volto che si trovava all'altra estremità, fino agli occhi tenebrosi di Stilgar, che lo scrutavano dalla sottile fessura tra la maschera filtro e il cappuccio della tuta distillante. Colui che guidò il Sitch Tabar prima di me, disse Stilgar, era mio amico. Avevamo diviso gli stessi pericoli. Mi doveva la vita, mille volte, e anch'io gli dovevo la mia. Io sono tuo amico, Stilgar, disse Paul. Nessuno può dubitarne, replicò Stilgar. Gli tolse la mano dalla spalla, scrollò la testa. È l'usanza. Paul comprese che Stilgar era troppo impregnato delle usanze dei Fremen, anche soltanto per considerare la possibilità che ce ne fossero altre. Qui un capo doveva morire prima di abbandonare le redini del potere a un altro, e Stilgar era un naib. Dobbiamo lasciare questo creatore nelle alte sabbie, disse Paul. Sì, Stilgar fu d'accordo. Poi marceremo fino alla grotta. L'abbiamo cavalcato per molto tempo, disse ancora Paul. Ora sprofonderà nella sabbia e dormirà per un giorno intero. Tu sei il mudir delle sabbie, fece Stilgar. È tuo... si interruppe e fissò il cielo ad est. Paul si voltò di scatto. L'azzurro della spezia, nei suoi occhi, rendeva il cielo più cubo, sul quale un ritmico lampeggiare lontano formava un violento contrasto. Un ornidottero. È piccolo, disse Stilgar. Forse un ricognitore, replicò Paul. Pensi che ci abbia visto. A questa distanza siamo soltanto un verme sulla superficie, disse Stilgar. Fece un rapido gesto con la sinistra. Giù, disperdetevi nella sabbia. I Fremen si calarono lungo i fianchi del verme, balzando sulla sabbia e confondendosi con essa sotto i loro mantelli. Paul vide dove era caduta Ciani. Qualche istante più tardi, soltanto lui e Stilgar erano ancora in groppo al verme. Primo a salire, ultimo a scendere, dichiarò Paul. Stilgar a noi. Si lasciò scivolare sul fianco, afferrandosi agli uncini e saltò sulla sabbia. Paul aspettò che il creatore fosse a una distanza di sicurezza, poi sganciò gli uncini. Questo era un momento delicato, poiché il verme era tutt'altro che esausto. Libero dai pungoli e dagli ami conficcati nella sua carne, l'immenso verme sprofondò nella sabbia. Paul cominciò a correre con passo leggero sulla sua schiena gigantesca. Colse con precisione il momento, saltò e rimbalzò sulla sabbia, continuando a correre, e si precipitò verso il lato liscio di una duna, come gli avevano insegnato, nascondendosi sotto una cascata di sabbia che ricoprì il suo mantello. Ora, l'attesa. Paul lentamente si voltò, finché non riuscì a distinguere una sottile striscia di cielo tra i bordi del suo mantello. Immaginò gli altri, più indietro sul sentiero, che facevano lo stesso. Sentì il battito delle ali dell'ornitottero prima ancora di vederlo. Poi, il sibilo del jet e il velivolo fu sopra di lui. Descrisse un'ampia curva sul deserto e si tuffò fra le rocce. Un ornitottero senza insegne, notò Paul. Scomparve alla loro vista, oltre la catena di Abbania. Il grido di un uccello risuonò nel deserto, poi un altro. Paul si scrollò di dosso la sabbia e salì fino in cima alla duna. Altre figure comparvero sulla cresta della duna, a varie distanze, riconobbe Ciani e Stilgar. Stilgar indicò la catena montuosa. Si riunirono e si misero in marcia secondo il ritmo spezzato che non avrebbe attirato i vermi della sabbia. Stilgar affiancò Paul sul lato della duna, indurito dal vento. Un ornitottero dei contrabbandieri, disse Stilgar. Così sembrava, replicò Paul, ma noi siamo troppo lontani, nel deserto, anche per i contrabbandieri. Anche essi hanno i loro problemi con le pattuglie. Se arrivano così lontano nel deserto, disse Paul, potrebbero andare ancora più lontano. È vero. Sarebbe una brutta cosa per noi se i contrabbandieri si avventurassero troppo a sud. Essi fanno commercio anche di informazioni. Non credi che cercassero la spezia? In questo caso dovrebbe esserci un trattore e un'ala a qui vicino, fece Paul. Noi disponiamo di una certa quantità di spezia. Prepariamo una trappola nella sabbia e catturiamo qualche contrabbandiere. Devono imparare che questa è la nostra terra e i nostri uomini devono far pratica con le nuove armi. Ecco, Usul ha parlato, esclamò Stilgar. Usul pensa come un Fremen. Ma Usul deve prendere delle decisioni che portano un terribile scopo, pensò Paul. La tempesta si addensava. Quando la legge e il dovere sono una cosa sola, unita dalla religione, noi perdiamo un po' della nostra consapevolezza. Non siamo più pienamente coscienti. Non siamo più individui completi. Da Muad'Dib, le novantanove meraviglie dell'universo, della principessa Irulan. La mietitrice dei contrabbandieri, con la sua ala trasporto e uno sciame di ornitotteri ronzanti, avanzava tra le dune simile a un'ape regina con la sua corte. Comparvero sul suo cammino alcune basse creste rocciose, che si innalzavano sul deserto come una sorta di miniatura del muro scudo. La recente tempesta aveva spazzato via la sabbia dalle rocce. Nella bolla di comando della mietitrice, Gurney Halleck si piegò in avanti, regolò le lenti ad olio del binocolo ed esplorò il paesaggio. Al di là della cresta vide una chiazza scura che avrebbe potuto essere un'esplosione di spezia e diede il segnale all'ornitottero più vicino perché scendesse ad investigare. L'ornitottero ondeggiò sulle ali a indicare che aveva ricevuto il messaggio. Uscì dallo sciame, puntando verso la sabbia più scura, ed esplorò la zona con i suoi misuratori che sondavano la superficie. Quasi subito ripiegò le ali e si tuffò in picchiata, girando in cerchio, confermando così la presenza della spezia. Gurney infilò il binocolo nella custodia. Anche gli altri avevano visto il segnale. Gli piaceva quel posto. La cresta rocciosa offriva uno schermo e una protezione. Erano nelle profondità del deserto e un'imboscata era poco probabile. Tuttavia, ordinò agli ornitotteri di sorvolare le rocce e di prendere posizione in differenti punti intorno alla zona, non troppo in alto, per sfuggire ai rivelatori Arconen a lunga portata. Non credeva, tuttavia, che le pattuglie degli Arconen si fossero spinte così lontano a sud. No, questo territorio era Fremen. Gurney controllò le armi, maledicendo il destino che rendeva inutili gli scudi nel deserto. Qualsiasi cosa che potesse richiamare un verme doveva venire evitata ad ogni costo. Si sfregò la cicatrice della liana Indelebilis sulla guancia, studiando il paesaggio. Decise che sarebbe stato più sicuro scendere con un gruppo di uomini a piedi, tra le rocce. L'esplorazione a terra era ancora la più sicura. Non si era mai abbastanza prudenti quando i Fremen e gli Arconen si tagliavano la gola a vicenda. Erano i Fremen, comunque, che preoccupavano Gurney in quel momento. La spezia importava poco, ma i Fremen si rivelavano dei veri demoni se si metteva il piede in un territorio che essi consideravano proibito. E, da qualche tempo, erano diabolicamente astuti. Gurney trovava insopportabili l'astuzia dei Fremen e la loro bravura in battaglia. Combattevano una guerriglia che non aveva nulla da invidiare alla raffinata abilità di Gurney. E lui era stato addestrato dai migliori combattenti dell'universo, prima di farsi le ossa in battaglie dove soltanto i più forti erano sopravvissuti. Nuovamente esaminò il deserto, chiedendosi da dove mai proveniva la sua inquietudine crescente. Forse il verme che avevano visto... no, era lontano, sull'altro lato della montagna. Una testa comparve al suo fianco, quella del comandante del trattore, un vecchio pirata barbuto e guercio, l'occhio azzurro e i denti candidi per la dieta a base di spezia. Sembra un ricco appezzamento, signore, disse il comandante. Ci andiamo? Calati sull'orlo di quella cresta, ordinò Gurney. Lasciami sbarcare con i miei uomini, poi muovi il cingolato fino alla spezia. Io e i miei uomini vi sorveglieremo dalle rocce. Sì. In caso di guai, disse Gurney, salva la mietitrice. Noi fuggiremo con gli ornitotteri. Il comandante salutò. Benissimo, signore. E sparì nella botola. Ancora una volta Gurney scrutò l'orizzonte. Potevano esserci dei fremen laggiù. La mietitrice stava violando il loro territorio e i fremen lo preoccupavano, imprevedibili e duri. C'erano molte cose in quel lavoro che lo preoccupavano, ma la ricompensa sarebbe stata grande. Li irritava anche il fatto che era impossibile inviare i ricognitori più in alto. E la radio doveva mantenere un silenzio assoluto. Tutto questo aumentava la sua inquietudine. Il trattore girò e cominciò a scendere. Scivolò dolcemente sull'arida spiaggia ai piedi della roccia. I cingoli toccarono la sabbia. Gurney aprì la bolla e si liberò della cintura di sicurezza. Nel preciso istante in cui la mietitrice si arrestava, balzò fuori, chiudendosi con un tonfo la bolla alle spalle. Si lasciò scivolare sui cingoli, aiutandosi con le mani e coi piedi, e con un salto scavalcò la rete di emergenza. I cinque uomini della scorta lo seguirono, uscendo dal boccaporto di prua. Altri sganciarono l'ala del trattore. L'ala si alzò in volo, acquistando vuota e mettendosi a girare sopra la mietitrice. Subito il colossale cingolato scattò in avanti, allontanandosi dalla cresta rocciosa e dirigendosi a largo, verso la macchia scura della spezia. Un ornitottero si calò in picchiata e toccò terra nelle vicinanze. Un altro lo seguì, e poi un terzo, con brusche frenate. Vomitarono all'esterno i plotoni di Gurney, poi spiccarono nuovamente il volo. Gurney, nella tuta distillante, tese le braccia e provò i riflessi dei muscoli. Si tolse dal viso la maschera e il filtro, perdendo umidità per far fronte a una necessità più immediata. Gli ordini che avrebbe urlato. Cominciò a scalare la roccia, controllando la consistenza del terreno. Ciottoli e sabbia pisolitica. Odore di spezia. Un posto ideale per una base di emergenza, pensò. Sarebbe forse assai utile sotterrare un po' di scorte qui intorno. Si voltò verso gli uomini che lo seguivano tra le rocce, in formazione sparsa. Era gente in gamba, anche i nuovi che non avevano avuto il tempo di mettere alla prova. Uomini di valore. Non c'era bisogno di ripetere continuamente quello che dovevano fare. Nessun vigliacco tra loro. Nessuno scintillio di scudi che avrebbe attirato un verme, rovinando il raccolto della spezia. Dal punto in cui si trovava, in alto fra le rocce, Gurney vedeva chiaramente la macchia scura della spezia, a mezzo chilometro di distanza, e il trattore che la stava raggiungendo proprio in quell'istante. Guardò in alto, verso la protezione aerea, valutandone la quota, non troppo elevata. Scosse la testa e riprese la sua scalata. In quell'istante l'intera cresta rocciosa sembrò esplodere. Dodici lampi accecanti schizzarono rombando verso l'alto, in direzione degli ornitotteri e dell'ala. Contemporaneamente un fracasso metallico si udì in direzione del trattore, e le rocce intorno a Gurney cominciarono a deruttare Fremen incappucciati. Un pensiero folgorò la mente di Gurney. Per le corna della grande madre! Razzi! Lanciano razzi! Poi si trovò faccia a faccia con una figura incappucciata, raggomitolata su se stessa, il Chris in pugno, pronta a scattare. Altri due uomini balzarono fuori dalle rocce, a destra e a sinistra. Soltanto gli occhi del guerriero davanti a lui erano visibili, tra il cappuccio e il velo del burnus color sabbia, ma la tensione che percepì nell'uomo l'avvertì che era un combattente, assai abile e dotato di ogni astuzia. Gli occhi erano azzurri nell'azzurro, il colore dei Fremen dell'alto deserto. Gurney mosse una mano verso il coltello, tenendo gli occhi fissi sul Chris dell'altro. Se osavano lanciare razzi, questo voleva dire che disponevano di altre armi a proiettile. Il momento richiedeva un'estrema prudenza. Sapeva, a giudicare dal fracasso, che almeno un paio dei suoi velivoli erano stati abbattuti. Alle sue spalle si udivano grugniti, imprecazioni, un rumore di lotta. Il Fremen aveva seguito il movimento della sua mano. «Lascia il coltello nel fodero, Gurney Alec», disse l'uomo. Gurney esitò. La voce aveva un suono stranamente familiare, anche attraverso il filtro della tuta. «Conosci il mio nome!», esclamò. «Non ti serve il coltello con me, Gurney», fece l'uomo. Si raddrizzò, infilò il Chris nel fodero sotto il mantello. «Die ai tuoi uomini di cessare la loro inutile resistenza». L'uomo gettò indietro il cappuccio e scostò il filtro. Gurney si impietrì. Per un attimo credette di trovarsi di fronte al fantasma del duca Leto Adreides. Poi, lentamente, comprese. «Paul», bisbio. Poi, più forte. «Paul, sei veramente tu?» «Non credi ai tuoi occhi?», domandò Paul. «Dicevano che eri morto», balbettò Gurney con voce rauca. Fece un mezzo passo avanti. «Die ai tuoi uomini di arrendersi», ripetè Paul, indicando la base della cresta rocciosa. Riluttante, Gurney si voltò. Vide soltanto qualche mischia isolata. Gli uomini del deserto sembravano essere ovunque. Il trattore era immobile e silenzioso. Un gruppo di Fremen era in piedi sopra di esso. Non si udiva più il rumore dei velivoli sopra le loro teste. «Cessate il combattimento!», urlò Gurney. Respirò profondamente, mise le mani a imbuto attorno alla bocca. «Qui, Gurney Alec! Cessate di combattere!». Lentamente le figure aggrovigliate nella lotta si separarono. Numerosi occhi perplessi si alzarono verso di lui. «Questi sono amici!», gridò ancora. «Amici!», gli rispose una voce. «Metà dei nostri uomini sono stati assassinati!». «È stato un errore!», disse Gurney. «Non peggioratelo!». Si voltò nuovamente verso Paul e fissò gli occhi del giovane, azzurri sull'azzurro. Un sorriso sfiorò il volto di Paul, ma c'era una durezza nella sua espressione che ricordò a Gurney il vecchio duca, il nonno. Poi vide il corpo nervoso e asciutto di Paul, la pelle coriacea, gli occhi sfuggenti, vigili, che non erano mai stati degli atreides. «Dicevano che eri morto!», ripeté ancora. «Mi ha sembrato la migliore protezione lasciargielo credere», disse Paul. Gurney si rese conto che quella sarebbe stata l'unica giustificazione che Paul gli avrebbe fornito, dopo averlo abbandonato alla sua sorte, facendogli credere che il giovane duca, che il suo amico fosse morto. Si chiese allora se fosse rimasto qualcosa del ragazzo che lui aveva conosciuto e addestrato nell'arte del combattimento. Paul fece un passo verso Gurney e sentì gli occhi che gli prudevano. Gurney. E furono l'uno nelle braccia dell'altro, battendosi reciprocamente le mani sulle spalle, provando il contatto confortante dei propri muscoli. «Dannato ragazzo! Dannato ragazzo!», continuava a balbettare Gurney. «E Paul?» «Gurney! Vecchio Gurney!». Poi si separarono, si squadrarono. Gurney respirò profondamente. «Così, tu sei la causa della nuova abilità dei Fremen in battaglia. Avrei dovuto immaginarlo. Fanno cose che soltanto io potrei fare?» Se soltanto avessi capito. Scosse la testa. «Se tu avessi mandato un messaggio, ragazzo, niente mi avrebbe fermato. Sarei venuto di corsa e...» Un'occhiata di Paul lo fermò. Uno sguardo duro, calcolatore. Gurney sospirò. «Sicuro? Qualcuno si sarebbe chiesto perché Gurney e Alec se n'era andato così in fretta. E alcuni avrebbero fatto qualcosa di più che porsi semplici domande. Avrebbero dato la caccia alle risposte». Paul annuì e guardò i Fremen in attesa. Vi era un apprezzamento e curiosità negli occhi dei Fedai Kin. Fissò nuovamente Gurney. L'aver ritrovato il suo vecchio maestro d'armi lo riempiva di gioia. Era come un felice presagio, l'annuncio di un avvenire propizio. Con Gurney al suo fianco, Paul guardò oltre i Fedai Kin e le rocce. Studiò l'equipaggiamento dei contrabbandieri. «Da che parte stanno i tuoi uomini, Gurney?» «Sono dei contrabbandieri. Vanno dove il profitto li chiama». «La nostra impresa garantisce ben pochi profitti», disse Paul e colse l'impercettibile gesto che Gurney gli aveva fatto con la mano destra. Nel vecchio codice manuale che un tempo usavano tra loro, questo significava che tra i contrabbandieri c'erano alcuni uomini da cui bisognava guardarsi. Portò la mano alla bocca per indicare che aveva capito e alzò lo sguardo verso i Fremen, che erano rimasti di guardia tra le rocce. Vide Stilgar. Il ricordo del suo problema ancora in sospeso raffreddò in parte la sua gioia. «Stilgar», disse Paul, «questo è Gurney Alec. Ti ho parlato tante volte di lui. Il maestro d'armi di mio padre. È lui che mi ha insegnato a combattere. È un vecchio amico. Ci si può affidare di lui per qualsiasi impresa». «Capisco», fece Stilgar. «Tu sei il suo duca». Paul fissò al volto cubo e si chiese per quale ragione Stilgar avesse detto proprio questo. «Il suo duca». C'era stata una lieve curiosa inflessione nella sua voce, come se volesse dire un'altra cosa. E questo non era da lui, perché Stilgar era un capo Fremen e diceva sempre quello che pensava. «Il mio duca», pensò Gurney. Guardò Paul come se lo vedesse per la prima volta. «Sì, Leto è morto e Paul è il duca». Nella sua mente, lo schema della guerra dei Fremen su Arrakis acquistò una nuova forma. «Il mio duca». Qualcosa di morto, nelle profondità della sua coscienza, riprese a vivere, a pulsare. A stento udì la voce di Paul, il quale ordinò che i contrabandieri fossero disarmati in attesa di interrogarli. Ritornò bruscamente alla realtà quando sentì i suoi uomini protestare. Scosse la testa e si voltò. «Siete sordi!» gridò. «Questo è il duca legittimo di Arrakis. Fate come vi ha ordinato». Borbottando, i contrabandieri si rassegnarono. Paul si avvicinò a Gurney e mormorò. «Non mi sarei mai aspettato che tu cadessi in questa trappola, Gurney. Sono stato giustamente punito. Scommetto che quella macchia laggiù, la spezia, non è più profonda di un granello di sabbia. Un'esca per attirarci». «Hai vinto la scommessa», replicò Paul. «Guardò i contrabandieri che consegnavano le armi. Vi sono altri uomini di mio padre nel tuo equipaggio». «Nessuno. Siamo troppo dispersi. Qualcuno è tra i liberi commercianti, ma la maggior parte ha speso tutti i suoi beni per andarsene da questo pianeta». «Ma tu sei rimasto?» «E io sono rimasto». «Perché Rabban è qui. Pensavo che non mi restasse nient'altro fuorché la vendetta», disse Gurney. Un urlo, curiosamente troncato, risuonò in cima alla cresta rocciosa. Gurney alzò gli occhi e vide un fremen che agitava un fazzoletto. «Arriva un creatore», disse Paul. Seguito da Gurney, salì su uno sperone roccioso e guardò verso sud-ovest. L'onda di sabbia spostata dal verme era visibile a metà strada tra le rocce e l'orizzonte, una traccia coronata di polveri che tagliava direttamente il deserto verso di loro. «È molto grosso», disse Paul. Uno strepito si alzò dalla mietitrice alle loro spalle. L'enorme macchina si stava girando sui cingoli come un gigantesco insetto, muovendosi pesantemente verso le rocce. «Peccato che non sia stato possibile salvare l'ala», disse ancora Paul. Gurney lo fissò e guardò nuovamente il mucchio di rottami fumanti nel deserto, dove l'ala e gli ornitotteri si erano schiantati, colpiti dai razzi dei fremen. Provò un improvviso dolore per gli uomini morti laggiù, i suoi uomini, e disse «Tuo padre si sarebbe rammaricato soprattutto per gli uomini che non era riuscito a salvare». Paul lo fissò duramente, poi abbassò lo sguardo. Replicò, infine, «Erano tuoi amici, Gurney. Ti capisco. Per noi, tuttavia, erano degli intrusi. Potevano vedere cose proibite». «Capisco. Fin troppo bene», disse Gurney. «Ora sono proprio curioso di vederle, queste cose proibite». Paul alzò gli occhi e riconobbe quel sogginio da vecchio lupo che conosceva così bene e l'increspatura della liana indelebilis sulla mascella di Alec. Gurney accennò col capo al deserto sotto di loro. I fremen continuavano ad affaccendarsi e nessuno sembrava preoccuparsi per l'avvicinarsi del verme. Un rullio risuonò tra le dune, al di là della trappola di spezia. Un sordo pulsare che Gurney sentì risalire dalla base della roccia attraverso i piedi. I fremen si dispersero sulla sabbia, lungo il segno del verme. E il verme era ormai vicino, come un gigantesco pesce delle sabbie, aprendo la superficie del deserto con la sua cresta. I suoi anelli lucidi e ondeggianti tracciavano un solco tra una nube di polvere. Dalla sua posizione privilegiata, Gurney poté assistere alla cattura, il balzo ardito del primo uncinatore, la brusca rotazione della creatura e poi tutti gli uomini che si lanciavano all'assalto dell'ammobile collina scagliosa. «Ecco una cosa che non avresti dovuto vedere», dichiarò Paul. «Circolano molte voci», disse Gurney. «Ma è impossibile crederlo senza averlo visto». Scosse la testa. «La creatura che tutti temono su Arrakis, voi la usate come un animale da sella». «Hai sentito mio padre parlare del potere del deserto», replicò Paul. «Eccolo, la superficie del pianeta è nostra. Non esistono tempeste o animali che possano fermarci». «Fermarci», pensò Gurney. «Vuol dire i Fremen. Si considera uno di loro». Considerò ancora gli occhi azzurri di Paul. Sapeva che anche i suoi occhi avevano una sfumatura di questo colore, ma i contrabbandieri potevano ottenere alimenti da altri pianeti e c'era una sottile implicazione di casta fra loro in base all'intensità dell'azzurro. Quando un uomo diventava troppo simile agli indigeni, si diceva che aveva preso un colpo di spezia. C'era sempre un certo disprezzo in questa espressione. «Un tempo non avremmo mai cavalcato un creatore alla luce del giorno e a queste latitudini», disse Paul. «Ma Rabban non dispone più di un numero sufficiente di ornitotteri per sorvegliare anche la più piccola distesa di sabbia». «Fisso a Gurney, i tuoi velivoli infatti ci hanno colto di sorpresa». «Ci hanno colto. ci hanno colto». Gurney scosse la testa per scacciare quei pensieri. «Non si può certo paragonare alla nostra sorpresa». «Che cosa si dice di Rabban nei villaggi?», chiese Paul. «Dicono che hanno fortificato i villaggi del Graben a un punto tale che voi non riuscirete più a far nulla contro di loro. Sono convinti che vi dissanguerete in inutili attacchi, mentre loro se ne staranno tranquilli dietro le linee di difesa». In altre parole, disse Paul, «sono immobilizzati». «Mentre voi potete andare dove volete», replicò Gurney. «È una tattica che ho imparato da te», fece Paul. «Hanno perduto l'iniziativa e questo vuol dire che hanno perduto la guerra». Gurney ebbe un sorriso di complicità. «Il nemico si trova esattamente dove io desidero che sia», concluse Paul. «Fissò Gurney. Ebbene, vuoi arruolarti con me per la fine di questa guerra? Arruolarmi?» Gurney lo fissò. «Mio signore, non ho mai lasciato il tuo servizio. Sei tutto quello che mi resta. E pensare che io ti credevo morto. Ero solo, e sono sopravvissuto come potevo, in attesa di immolare la mia vita per l'unica causa valida, la morte di Rabban». Paul tacque, imbarazzato. Un profilo femminile scivolò tra le rocce sopra di loro. I suoi occhi, dietro la maschera, guizzavano da Paul al suo compagno. Si fermò davanti a Paul. Gurney notò il suo atteggiamento possessivo, il modo in cui lo fronteggiava. «Ciani», disse Paul, «questo è Gurney Alec. Mi hai sentito parlare di lui?» «Sì, ho sentito parlare di lui», replicò Chiani. Lanciò una rapida occhiata ad Alec, poi fissò nuovamente Paul. «Dove sono andati gli uomini sul creatore?» «L'hanno cavalcato solo per distrarlo e darci il tempo di salvare le macchine». «Bene, allora». Paul si interruppe e annusò l'aria. «Sì, il vento si avvicina», disse Chiani. Una voce li chiamò dalla cresta rocciosa che incombeva su di loro. «Ehi, laggiù! Il vento!» Gurney vide che i Fremen si muovevano più in fretta. I loro gesti erano frenetici adesso. L'avvicinarsi del vento creava in essi il timore che neppure il verme aveva suscitato. La mietitrice risali pesantemente l'arido pendio sabbioso, aprendosi una strada tra le rocce. E i macigni furono rimessi a posto dietro la macchina, con tanta precisione che i suoi occhi non scorsero più traccia del passaggio. «Ne avete molti di nascondigli di questo tipo?» domandò. «Molti, moltissimi, anzi». Paul guardò Chiani. «Trovami Corba, digli che Gurney mi ha avvertito che ci sono uomini fra questi contrabbandieri di cui non ci si può fidare». Chiani fissò ancora Gurney, poi Paul. Annui e si allontanò tra le rocce, agile come una gazzella. «È la tua donna?» chiese Gurney. «La madre del mio primo genito», disse Paul. «C'è un altro leto fra gli atreides». Gurney accettò la notizia, limitandosi a stralunare gli occhi. Paul osservò con occhio critico l'attività dei suoi uomini. Il cielo, verso sud, aveva acquistato una tinta a ocra e le prime raffiche di vento li investirono in un turbinio di polvere. «Stringi bene la tuta», disse Paul, e si aggiustò la maschera e il cappuccio. Gurney obbedì. Paul riprese e la sua voce risuonò soffocata dai filtri. «Quali sono gli uomini di cui non ti fidi, Gurney?» «Vi sono alcune nuove reclute», spiegò Gurney. «Alcuni stranieri». Esitò, stupito che questo termine gli fosse venuto così facilmente. «Stranieri». «Sì? Non... non assomigliano ai cacciatori di fortuna che si uniscono a noi», disse Gurney. «Sono diversi, più duri. Spie degli Arconnen», chiese Paul. «Credo, mio signore, che non abbiano niente a che vedere con gli Arconnen. Io sospetto che siano al servizio dell'imperatore. Salusa Secundus ha lasciato la sua impronta su di loro». Paul gli lanciò un'occhiata tagliente. «Sardaukar». Gurney scrollò le spalle. «È possibile, ma lo nasconderebbero assai bene in questo caso». Paul annuì. Gurney aveva riacquistato subito le sue abitudini di leale difensore degli Atreides, ma con qualche sottile differenza. Arrakis aveva cambiato anche lui. Due Fremen incappucciati emersero da una spaccatura della roccia e si arrampicarono verso di loro. Uno dei due trasportava un grosso fagotto nero sopra la spalla. «Dove sono i miei uomini adesso?» si informò Gurney. «Al sicuro fra le rocce sotto di noi», disse Paul. «Abbiamo una caverna qua giù, la caverna degli uccelli. Decideremo il loro destino dopo la tempesta». «Muadib!» chiamò una voce. Paul si voltò al grido e vide una sentinella all'imboccatura della grotta. Fece un gesto in risposta. Gurney lo fissò stupito. «Sei Muadib!» domandò. «Il turbine delle sabbie!» «È il mio nome Fremen!» spiegò Paul. Gurney evitò il suo sguardo, colto da un cupo presentimento. Metà dei suoi uomini giacevano morti sulla sabbia, l'altra metà era prigioniera. Non gli importava delle nuove reclute, ma fra gli altri c'era brava gente. Amici, uomini nei cui confronti sentiva una certa responsabilità. «Decideremo il loro destino dopo la tempesta», questo aveva detto Paul. Anzi, Muadib. E Gurney ricordò le storie che si raccontavano di Muadib. Il Lisan al-Gaib. Come avesse spellato un ufficiale degli Harkonnen per farne pelle di tamburo, e come amasse circondarsi dei Commandos della Morte, i Fedai Kin, che si precipitavano nella lotta alzando Igni alla morte. Lui. I due Fremen che risalivano la roccia appalzarono in silenzio su uno spuntone davanti a Paul e si immobilizzarono. Quello dal volto scuro disse «Tutto è posto, Muadib. Meglio andar sotto adesso. D'accordo». Gurney valutò la voce dell'uomo, comando e preghiera insieme. Era Stilgar, un'altra figura leggendaria fra i Fremen. Paul fissò il fagotto nero sulla spalla dell'altro. «Korba, che cosa c'è là dentro?» Stilgar rispose «Ero nel trattore. Ho le iniziali del tuo amico qui presente e contiene un balisette. Ti ho sentito parlare tante volte della bravura di Gurney Allek al balisette». Gurney lo studiò, vide la barba nera che spuntava dal bordo della maschera, gli occhi da falco, il naso a guzzo. «Hai un compagno che pensa, mio signore», disse Gurney. «Grazie, Stilgar». Stilgar accennò al Fremen chiamato Korba di passare il fagotto a Gurney e replicò «Ringrazio il tuo signore, il duca. Il suo favore ti ha guadagnato la missione fra noi». Gurney accettò il fagotto, perplesso a causa della durezza che aveva percepito nelle parole di Stilgar. L'uomo aveva parlato in tono di sfida e Gurney si chiese se il Fremen, per caso, non provasse gelosia. Lui era Gurney Allek, un uomo che conosceva Paul da lungo tempo, ancora prima di Arrakis, un uomo che aveva condiviso con Paul un antico cameratismo da cui Stilgar sarebbe sempre stato escluso. «Voglio che voi due siate amici», disse Paul. «Stilgar il Fremen è un nome famoso», dichiarò Gurney. «Io sarò onorato di contare tra i miei amici chiunque abbia ucciso degli Arkonen. Stringerai la mano al mio amico Gurney Allek, Stilgar», chiese Paul. Lentamente Stilgar porse la mano e strinse quella che Gurney gli offriva, una mano che la spada, anno dopo anno, aveva reso callosa. «Pochi ignorano il nome di Gurney Allek», disse a sua volta. Lasciò la presa e si voltò verso Paul. «La tempesta si precipita su di noi». «Andiamo», disse Paul. Stilgar si voltò, guidandoli attraverso le rocce, lungo un sentiero serpeggiante che li portò dentro una spaccatura stretta e tenebrosa, fino al basso ingresso di una caverna. Un gruppo di uomini si affrettò a sigillarla non appena furono passati. Alcuni globi luminosi rivelarono un'ampia scala scavata nella roccia, con un soffitto a cupola e una sporgenza lunga e piatta che si alzava su un lato e dava accesso a un corridoio. Paul balzò sulla sporgenza, seguita da Gurney, e gli fece strada lungo il corridoio. Gli altri si diressero verso un altro passaggio, che si apriva di fronte all'entrata. Paul condusse Allek attraverso un'anticamera e di qui a una stanza rivestita di tende rosso vino. «Qui resteremo soli per un po', disse Paul. Gli altri rispetteranno la mia. L'allarme, suonato su un gong, esplose con enorme fracasso nella grotta d'entrata, seguito da urla e da un clangore d'armi. Paul si girò di scatto, precipitandosi verso l'anticamera e la sporgenza rocciosa. Gurney venne dietro di lui, la spada sguainata. Sotto di loro, una mischia tumultuante di figura in lotta nascondeva il pavimento della caverna. Paul valutò in un attimo la scena, distinguendo i mantelli e i burkas dai costumi degli altri. I sensi, che la madre gli aveva affinato con gli anni, gli indicarono un fatto significativo. I Fremen si battevano contro un gruppo di uomini vestiti da contrabbandieri, ma raggruppati a tre per tre, disposti a triangolo sotto la pressione degli avversari. L'abitudine di combattere corpo a corpo era il marchio dei sardauker imperiali. All'improvviso, un fedekin nel tumulto vide Paul e il suo grido di battaglia si innalzò, richeggiando nella caverna. Muadib! 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 Ma anche gli altri occhi avevano visto Paul. Un coltello nero fu scagliato contro di lui. Paul lo schivò, udì la lama a colpire la roccia alle sue spalle, si voltò e vide Gurney che lo raccoglieva. I triangoli degli assalitori venivano respinti adesso. Gurney alzò il coltello davanti agli occhi di Paul e indicò la spirale gialla, sottile come un capello, e il leone dalla criniera dorata e gli occhi sfaccettati sull'impugnatura. I simboli dell'impero. Sardauker, senza alcun dubbio. Paul avanzò sulla sporgenza. Soltanto tre sardauker erano ancora vivi. Corpi sanguinanti erano sparsi per tutta la caverna. Fermatevi! Urlò. Il duca Paul Atreides vi ordina di fermarvi. I combattenti ondeggiarono, esitarono. Voi, Sardauker! Urlò Paul ai tre che restavano. Per ordine di chi minacciate la vita di un duca regnante? E rapidamente, mentre i suoi uomini continuavano ad assalirli, fermi, ho detto! Uno dei tre, messo alle strette, si raddrizzò. Chi dice che siamo Sardauker? Paul prese il coltello a gorne e lo sollevò. Questo lo dice. E allora, chi dice che tu sia un duca regnante? Domandò l'uomo. Paul fece un gesto verso i fedai kin. Questi uomini dicono che io sono il duca regnante. Il vostro imperatore in persona ha assegnato Arrakis alla casa degli Atreides. Io sono la casa degli Atreides. Il Sardauker rimase in silenzio, agitandosi nervosamente. Paul studiò l'uomo, alto, slavato, una pallida cicatrice che gli attraversava una guancia. Il suo atteggiamento tradiva rabbia e confusione, ma c'era ancora quell'orgoglio in lui, senza il quale un Sardauker sarebbe parso nudo e con il quale sembrava sempre in uniforme. Paul lanciò un'occhiata a uno dei suoi luogotenenti fedai kin. «Korba, come mai sono armati?» «Avevano coltelli in tasche astutamente dissimulate nelle tute di stillanti», disse Korba. Paul esaminò i morti e i feriti sparsi nella caverna, poi fissò nuovamente Korba. Non c'era bisogno di parole. Il luogotenente abbassò gli occhi. «Dov'è Ciani?» Paul trattenne il respiro. «Stilgar l'ha trascinata via!» Korba indicò con la testa l'altro corridoio, guardò i morti e i feriti. «Vi considero responsabile per questo errore, Muad'Dib. Quanti Sardauker c'erano, Gurney?» chiese Paul. «Dieci». Paul saltò giù dalla sforgenza e attraversò la caverna, portandosi a un metro di distanza dal Sardauker che aveva parlato. Sentì i fede e i kin che si tendevano. Non avrebbero voluto che Paul si esponesse in tal modo al pericolo. Essi desideravano impedire a tutti i costi che ciò avvenisse, perché nessun Fremen voleva perdere la saggezza di Muad'Dib. Senza voltarsi, Paul chiese al luogotenente. «A quanto ammontano le nostre perdite?» «Quattro feriti e due morti, Muad'Dib». Paul colse un movimento dietro al Sardauker. Ciani e Stilgar uscirono dall'altro corridoio, uno accanto all'altra. Paul riportò la sua attenzione al Sardauker, fissando il bianco di quegli occhi di un altro mondo. «Tu, qual è il tuo nome?» gli chiese. L'uomo si irrigidì, lanciando occhiate a destra e a sinistra. «Non provarci», lo consigliò a Paul. «È evidente che vi hanno ordinato di cercare e di distruggere Muad'Dib, e sono certo che siete stati voi a suggerire che si cercasse la spezia nell'alto deserto». Un'esclamazione soffocata di Gurney, alle sue spalle, suscitò un lieve sorriso sulle labbra di Paul. Il sangue affluì al volto del Sardauker. «Ciò che tu vedi davanti a te è più di Muad'Dib», disse Paul. «Sette dei vostri sono morti, e solo due dei nostri. Tre a uno. Niente male contro dei Sardauker, non è vero?» L'uomo si alzò sulla punta dei piedi e ricadde non appena i Fedekin accennarono ad avanzare. «Ti ho chiesto il tuo nome», disse Paul, e si servì della voce. «Dimmi il tuo nome! Capitano Aram Sham dei Sardauker Imperiali», esclamò l'uomo. La sua mascella ricadde. Fisso a Paul sconvolto, distrutto. Fino a quel momento aveva considerato quella caverna una tana di barbari. Ora, però, non la pensava più così. «Bene, capitano Aram Sham», continuò Paul. «Gi Arconnen pagherebbero cifre favolose per sapere quello che voi adesso sapete. E l'imperatore? Che cosa darebbe l'imperatore per sapere che un Atreides è ancora vivo, nonostante il suo tradimento?» Il capitano guardò a destra e a sinistra, verso i due uomini che gli rimanevano. Paul poteva quasi toccare i pensieri che turbinavano nella mente dell'uomo. I Sardauker non si arrendevano mai, ma l'imperatore doveva sapere di questa minaccia. Sempre usando la sua voce, Paul disse «Arrendetevi, capitano!» L'uomo a sinistra di Aram Sham balzò all'improvviso verso Paul, ma si scontrò col pugnale del capitano, che guizzò nel suo petto. L'assalitore stramazzò al suolo, sanguinante, la lama piantata nel cuore. Il capitano fronteggiò l'ultimo compagno che gli era rimasto. «Tocca a me decidere quello che è meglio per sua maestà!» gridò. «Capito!» L'altro Sardauker si afflosciò. «Botta a terra il coltello!» ordinò il capitano. Il Sardauker obbedì. Il capitano si voltò nuovamente verso Paul. «Per voi ho ucciso un amico!» disse. «Non lo dimenticherò mai!» «Siete mio prigioniero!» replicò Paul. «Vi siete arreso a me! Che voi viviate o moriate non ha alcuna importanza!» Fece un gesto alle guardie perché prendessero i due Sardauker e si voltò verso Korba. «Muadib!» disse Korba. «Ho mancato al mio compito!» «L'errore è stato mio, Korba!» l'interruppe Paul. «Avrei dovuto avvertirti. In futuro, quando perquisisci un Sardauker, ricordati di questo. E ricordati anche che ciascuno di loro ha una o due unghie false dei piedi, che possono essere combinate con altri oggetti nascosti nel loro corpo per montare una radiotrasmittente. Hanno uno o più denti falsi e rotoli di filo sciga nascosti tra i capelli, così sottili da essere quasi invisibili, e tuttavia abbastanza robusti da strangolare un uomo e perfino tagliargli la testa. È necessario esaminare i Sardauker centimetro per centimetro, sondarli coi raggi X, tagliar loro ogni ciuffo di peli del corpo, e quando avrai finito stai pur certo che non avrai ancora scoperto tutto.» Alzò gli occhi su Gorney, che si era avvicinato ad ascoltare. «Allora è molto meglio ucciderli», disse Korba. Paul scosse la testa, sempre fissando Gorney. «No, voglio che riescono a fuggire.» «Signore!» Gorney quasi soffocò. «Sì?» «Il tuo uomo ha ragione. Bisogna ucciderli immediatamente. Distruggi tutte le prove della loro presenza qui. Hai umiliato i Sardauker imperiali. Quando l'imperatore lo saprà non avrà più pace finché non ti avrà messo a cuocere a fuoco lento.» «È assai difficile che l'imperatore ci riesca», disse Paul, lentamente, freddamente. Qualcosa era accaduto dentro di lui, mentre fronteggiava il Sardauker. Una somma di decisioni si era formata. «Gorney», riprese, «ci sono molti uomini della Gilda intorno a Rabban.» «Gorney si raddrizzò, socchiuse gli occhi.» «La tua domanda non ha alcun...» «Quanti!» urlò Paul. «Arraki sprulica di agenti della Gilda. Comperano la spezia come se fosse la cosa più preziosa dell'universo. Perché mai ci saremmo avventurati così lontano nel deserto, se non...» «La spezia è davvero la cosa più preziosa dell'universo», disse Paul. «Per loro.» Si voltò verso Cianni e Stilgar, che si avvicinavano. «E siamo noi che la controlliamo, Gurney.» «No! Gli Arconnen!» protestò Gurney. «Chi può distruggere una cosa la controlla», replicò Paul. Con un gesto imperioso impedì a Gurney di replicare. Poi salutò Stilgar e Cianni con un cenno del cavo. Prese il coltello del Sardaukar con la sinistra e lo porse a Stilgar. «Tu vivi per il bene della tribù», disse. «Spargeresti il mio sangue con questo coltello.» «Per il bene della tribù», grugni Stilgar. «Allora, usa questo coltello.» «Mi stai sfidando?», domandò Stilgar. «Se ti sfidassi», dichiarò Paul, «lo farei senza armi e mi lascerei colpire.» Stilgar respirò fannosamente. «Usul!», esclamò Cianni. Fissò Gurney e poi ancora Paul. Mentre Stilgar rifletteva sul significato di queste parole, Paul proseguì. «Tu sei Stilgar, l'uomo delle battaglie. Quando i Sardaukar hanno scatenato il massacro qui, tu non c'eri.» «Il tuo primo pensiero è stato quello di proteggere Cianni.» «È mia nipote», disse Stilgar. «Se i tuoi fedekin non fossero riusciti a distruggere quelle canaglie, perché il tuo primo pensiero è stato per Cianni?», chiese Paul. «Non ho pensato a Cianni.» «Ah? Ho pensato a te», confessò Stilgar. «E allora sei ancora convinto che riusciresti ad alzare la tua mano contro di me?». Stilgar cominciò a tremare e mormorò. «È l'usanza.» «È anche l'usanza uccidere gli stranieri di un altro mondo incontrati nel deserto e impadronirsi della loro acqua come un dono di Shaiulud. Tuttavia, tu hai salvato la vita di due stranieri una notte, mia madre e me.» Poiché Stilgar continuava a tacere, tremando, gli occhi puntati su di lui, Paul continuò. «Le usanze cambiano, Stilgar. Le hai cambiate tu stesso.» Stilgar abbassò gli occhi sull'emblema giallo del pugnale che stringeva in mano. «Quando io sarò duca in Arrakin, con Cianni al mio fianco, credi che avrò il tempo di occuparmi del Sitch Tabar?» insistette Paul. «De tutti i problemi particolari di ogni famiglia.» Stilgar continuò a fissare la lama. «Credi davvero che io voglia tagliarmi il braccio destro?» domandò Paul. Lentamente, Stilgar alzò gli occhi e lo guardò. «Credi davvero?» proseguì Paul. «Che io voglia privare la tribù e me stesso della tua forza e della tua saggezza.» A bassa voce, Stilgar replicò. «Questo giovane della mia tribù, di cui conosco il nome, io potrei ucciderlo, rispondendo alla sua sfida, secondo le volontà di Shaiulut. Ma il lisan al-Gaib non potrei toccarlo. Tu lo sapevi quando mi hai dato il coltello.» «Lo sapevo», confermò Paul. Stilgar aprì la mano. Il coltello rimbalzò al suolo con un suono metallico. «Le usanze cambiano», disse. «Ciani», ordinò Paul. «Vada mia madre. Dille che ci raggiunga, subito, prima che... Ma avevi detto che saremmo andati a sud», protestò Ciani. «Mi sono sbagliato. Gli Arconen non sono laggiù. La guerra non è laggiù.» Ciani respirò profondamente e accettò tutto questo come le donne del deserto accettavano gli obblighi di quella vita così intimamente legata alla morte. «Porterai a mia madre un messaggio che soltanto le sue orecchie dovranno udire», disse Paul. «Dille che Stilgar mi riconosce come duca di Arrakis e che bisogna fare in modo che i giovani lo accettino senza combattere.» Ciani guardò Stilgar. «Fai come ti ha detto», borbottò Stilgar. «Sappiamo entrambi che potrebbe vincermi e che io non potrei alzare una mano su di lui per il bene della tribù.» «Ritornerò con tua madre», disse Ciani. «Manda lei sola», replicò Paul. «Stilgar ha visto giusto. Io sono più forte quando tu sei al sicuro. Tu rimarrai nel Sitch.» Lei fece per protestare, poi tacque. «Siaia», aggiunse Paul, pronunciando il suo nome segreto. Poi distolse lo sguardo da lei e incontrò gli occhi fiammeggianti di Gurney. Dall'istante in cui Paul aveva nominato sua madre, tutto per Gurney era sprofondato in una coltre di nebbia. «Tua madre», disse Gurney. «Aidao ci ha salvato la notte del tradimento», spiegò Paul, con la mente ancora rivolta a Ciani. «Ora noi...» «Che cos'è accaduto a Duncan Aidao, mio signore?», chiese Gurney. «È morto, dandoci il tempo di fuggire.» «La strega è viva», pensò Gurney. «È viva, con lei sulla quale ho giurato vendetta. Ed è evidente che il duca ignora quale creatura gli ha dato la luce. Mostro, lei ha venduto suo padre agli Argonnen.» Paul gli passò accanto e balzò nuovamente sulla sporgenza rocciosa. Si guardò intorno e vide che i morti e i feriti erano stati portati via. Pensò amaramente che questo sarebbe stato un altro capitolo della leggenda di Muad'Dib. Non ho neppure impugnato il coltello, ma si racconterà che oggi ho ucciso venti Sardaukar con le mie mani. Gurney segui Stilgar, insensibile al pavimento di roccia, ai globi luminescenti, travolto da un furore selvaggio. La strega è ancora in vita, e quelli che ha tradito sono soltanto osse in una tomba solitaria. Paul deve sapere la verità su di lei, prima che io la uccida.